Allora, no veramente ripiombiamo così tristemente sulla terra con la mia relazione dopo aver volato in posti meravigliosi, ma non lo dico per falsa modestia, è vero nel senso che io oggi non offro diciamo i risultati di ricerche più o meno ben decantate, ma come dire tento di sfruttare la presenza di illustri colleghi per offrire alla discussione delle ipotesi di lavoro, quindi io stessa mi avventuro in campi poco noti per me e poi diciamo altre vicende di natura invece strettamente personali hanno reso ancora più provvisorie le osservazioni che volevo, che cercherò di offrirvi. Ora, la ragione per cui ho scelto diciamo di occuparmi di secondo ottocento, cioè di un periodo storico che io ho poco frequentato dal punto di vista scientifico, è strettamente egoistica diciamo, nel senso che con Ilaria ci è venuto in mente di lavorare a quattro mani sullo stato sociale e il primo problema a presentarsi appunto è quello del dies a quo, cioè del momento a partire dal quale iniziare la ricerca e le relazioni che mi hanno preceduto hanno sottolineato il carattere estremamente tortuoso, frastagliato di questa datazione. Ora, il mio intervento sarà veramente puntiforme, cioè mi occuperò di un piccolissimo segmento, cioè della scienza, di come la scienza giuridica italiana reagisce a queste novità del panorama secondo ottocentesco. Ora, non c'è bisogno che lo dica, è stato già detto e poi è a tutti noto, come l'ultimo scorcio di 800, gli ultimi 20-30 anni di 800 coincidano con significative novità. Sono gli anni in cui viene promulgata la legislazione sociale che sembra temperare la matrice individualistica dei sistemi giuridici, pensiamo al riconoscimento delle società di mutuo soccorso, a tutta la legislazione protettiva, soprattutto in ambito lavoristico. È anche il periodo nel quale entrano nell'orbita del pubblico, lo diceva bene Bernardo Sordi, strutture operanti per esempio nel campo dell'assistenza, così come sono gli anni nei quali prende piede nella maggior parte dei paesi industrializzati dell'Europa il sistema delle cosiddette assicurazioni sociali, facoltative o obbligatorie. Ora, alcuni autori hanno sottolineato come questo sistema delle assicurazioni sociali tutto sommato valesse a sterilizzare il profilo della responsabilità, cioè accogliessero in qualche modo quella che è stata chiamata l'ideologia della fatalità, cioè l'idea che certi avvenimenti si producessero per fatalità accantonando il più corposo problema della ricerca di eventuali responsabilità in capo al soggetto, diciamo al lato forte del gioco economico. Ora, se questa lettura è plausibile, è anche vero che il sistema delle assicurazioni sociali, visto dal lato debole del rapporto giuridico e spesso del rapporto di lavoro, portava anche a riconoscere qui, e cito da Ritter, che esistevano cause sociali di bisogno di cui il singolo non era responsabile, quindi anche una tutela o una situazione di bisogno non imputabile alla responsabilità del singolo, del soggetto debole o indebolito. Ora, chiaramente questo non sancisce la fine di quella visione che almeno dall'occhio in poi tendeva ad attribuire la debolezza economico-sociale dei soggetti a un difetto di razionalità o di volontà dei soggetti medesimi, oppure che tendeva a ricollegare il panorama delle diseguaglianze alle imperscrutabili vie scelte dalla natura per distribuire agli uomini, questa è la celebre espressione di Portalis, ma se ne trovano molte altre simili, appunto le imperscrutabili vie seguite dalla natura per distribuire agli uomini in modo diseguale forze, virtù, talenti, quindi c'è questa distribuzione casuale, imperscrutabili, che determina poi un certo assetto delle diseguaglianze. Ora è chiaro che di questi interventi dello Stato sociale è stato sottolineato, ed è un dato ugualmente noto, sottolineato in modo quasi unanime l'essenziale vocazione antirivoluzionaria. Ora, alcuni autori hanno posto l'accento su un profilo, cioè questa legislazione nasce essenzialmente per assicurare le masse allo Stato, per convincerle della benevolenza dello Stato e quindi allontanarle dalla prospettiva rivoluzionaria. Altri autori invece, penso soprattutto a un'interpretazione data da Pombeni, hanno ritenuto che questa legislazione sociale servisse a legittimare successivi interventi repressivi. Cioè solo uno Stato che si occupa di certe sacche di disagio ha poi titolo a legittimità per reprimere, per mostrare il volto più aggressivo. Indubbiamente questa legislazione ha rappresentato un importante strumento di governo di alcuni importanti processi di trasformazione politica e socio-economica. in qualche modo ha temperato e limato gli aspetti più accuminati, più impresentabili delle iniquità prodotte dal processo di industrializzazione fine ottocentesco, in fondo contribuendo a consolidare le strutture portanti di quell'ordine. Non so come dire, se ne temperano gli aspetti più intollerabili per consolidarne le strutture portanti, l'ossatura portante. Quindi la capacità di quel sistema, per corroborare la capacità di quel sistema, anche di reggere il futuro, di accreditarsi quale soluzione di gestione delle relazioni sociali, economiche e politiche tendenzialmente superiore alle altre storicamente pensabili o sperimentabili. Da questo punto di vista non sorprende che l'Ottocento, cioè che il secolo dell'individualismo trionfante, tenda a produrre un monopolio statuale delle politiche sociali o pubbliche. Su questo ha scritto pagina, secondo me molto bella, Rosanne Vallon, il quale ha detto che di fronte a una strutturazione bipolare del campo socio-politico, l'individuo e lo Stato, anche il sistema di soddisfazione di bisogni sociali sarà a sua volta bipolare. E qui o lo Stato, dice lui, o il mercato. E chiaramente nel momento in cui si colgono certe smagliature nel funzionamento della logica di mercato, magari per consolidarla, si tende inevitabilmente allo Stato. Ha detto Rimoli appunto che la celebrazione dell'autonomia della società tipica del diritto ottocentesco e il monopolio pubblico delle politiche statali non sono concetti, delle politiche sociali scusate, non sono concetti contraddittori, ma appunto rappresentano le due facce complementari della stessa medaglia. Ora, se si tenta diciamo di ribaltare questi aspetti, diciamo queste questioni sul versante più propriamente giuridico, cioè cercare di vedere come la scienza giuridica, la riflessione giuridica teorica si confronta con queste novità, non si ricavano letture o interpretazioni che contraddicono quanto detto finora. Tuttavia può essere di un qualche interesse vedere, soffermarsi sulle diverse vie percorse dalla riflessione giuridica per avvicinare i problemi posti dalla questione sociale. Forse è necessario fare un'osservazione preliminare e qui prendo a prestito alcuni concetti che ha sviluppato Giovanni Cazzetta in alcune sue pagine molto dense e molto lucide di qualche anno fa. Secondo Cazzetta, e io condivido in pieno questa lettura, è semplicistico dividere la scienza giuridica in due filoni drasticamente contrapposti e non comunicanti. È in particolar modo non corretto, semplicistico, vedere da un lato innovatori, cioè quei giuristi socialmente sensibili o più sensibili degli altri, intenti a criticare l'eccesso di individualismo del codice e invece dall'altro lato una schiera compatta di conservatori viceversa ostinatamente attaccati alla tessitura individualistica del sistema giuridico. Quindi queste letture da un lato vedrebbero una sorta di risposta consapevole al mutamento del proprio tempo, mentre i conservatori sarebbero, come dire, gli attori di una grande rimozione, di un esorcismo variamente riuscito nei confronti della fibrillare, diciamo, della realtà sociale. Invece sembra più plausibile, forse anche storiograficamente più corretto, vedere in queste due risposte che pure furono molto diverse, appunto vedervi due risposte, non una risposta e una rimozione, cioè due risposte ugualmente consapevoli rispetto alle sfide poste dalla cosiddetta della questione sociale. Peraltro l'ultimo scorcio di 800 è anche il periodo in cui le teorizzazioni più sofisticate dell'individualismo raggiungono il proprio zenith teorico. Sono gli anni in cui lavora la pandettistica in Germania e questo verbo pandettistico poi arriva in Italia e sono gli anni in cui si costruisce la scuola del diritto pubblico, quindi da Gerber a Orlando si mette a fuoco teoricamente, si dà compiuta, diciamo, traduzione teorica a questo individualismo. E quindi anche i costruttori della strattezza non scontano solo un'ironia della storia, cioè nel momento in cui certe categorie vengono finalmente, compiutamente nucleate dal punto di vista teorico, la storia smentisce quelle categorie, ma i costruttori della strattezza sono uomini del loro tempo, sono eccellenze del loro tempo e quindi verosimilmente anche la loro è una risposta, diversa da quella dei cosiddetti innovatori, ma non è una forma di rimozione. Ora, quindi forse si può partire da qui, cioè esistono delle differenze e queste differenze riguardano i compiti che si attribuiscono al diritto, il diverso raggio di azione che si ritiene posto o debba avere il diritto anche in riferimento alla questione sociale. Quindi queste differenze esistono e sono forti. Allo stesso tempo sembra che queste voci distanti in qualche modo germinino da un impianto concettuale più condiviso, cioè da un tronco diciamo concettuale condiviso, più condiviso di quanto normalmente si rileva. Ad avvicinare queste posizioni è probabilmente un presupposto implicito. Pietro Costa ha detto tanto più significativo quanto più implicito. E questo presupposto diciamo che in qualche modo costituisce la madre concettuale di queste diverse strade è rappresentato da quella che è stata chiamata, cioè è rappresentato, scusate, da una certa concezione della storia. Cioè dall'idea della storia come dimensione progrediente, come dimensione progressiva, come dimensione che tende a vedere l'oggi come una tappa di incivilimento rispetto al passato e a offrire appunto, ad aprirsi al futuro, vedere nel futuro un ulteriore svolgimento. Ora, questa storia vista così, vista come orizzonte progrediente di incivilimento progressivo, ha consegnato all'oggi alcuni frutti benefici, alcuni frutti significativi e positivi. Gli ha consegnato lo Stato liberale, per un giurista ottocentesco, gli ha consegnato lo Stato liberale, nella sua forma monarchico-parlamentare, e glielo ha consegnato quale segno in dubbio del progressivo incivilimento delle nazioni. Su questo è unanime la scienza giuridica secondo ottocentesco. Questa forma di Stato che la storia ha consegnato all'oggi è un approdo ineludibile e positivo, è un segno di questo sviluppo progressivo della storia. E gli ha consegnato anche il codice civile. Cioè gli ha consegnato questa tavola costituzionale della società borghese, che sigla una sorta di patto di reciprocità tra la società e lo Stato. Cioè per la prima volta lo Stato si appropria della disciplina del diritto privato, cioè il diritto privato diventa prerogativa dello Stato, il codice dal punto di vista delle fonti è una legge dello Stato, ma allo stesso tempo lo Stato celebra l'autonomia, nel momento in cui si appropria del diritto privato, celebra l'autonomia della società borghese, liberata dai vincoli cetuali e corporativi, e quindi lasciata, diciamo, libera di esplicare le proprie energie. Ed è una società che chiaramente trova nel principio dell'uguaglianza giuridica formale, che noi chiamiamo formale, il suo momento tipico e qualificante di emersione. Ora, quello però formulato dalla scienza giuridica non è, come dire, un inchino tributato a questi frutti considerati come frutti improvvisamente comparsi sul terreno storico, o peggio, riconducibili alla semplice volontà di un legislatore storico. Cioè, anche il codice non è il frutto della volontà di un legislatore storico, ma è un approdo di una sapienza millenaria, poi non è così, ma così viene dipinto, un approdo di una sapienza millenaria che trova un suo momento di concrezione nel testo codificatorio. Allo stesso tempo che la Costituzione non è quella risultante solo dalla carta statutaria, ma è quella risultante dallo statuto, così come metabolizzato e trasformato dalla storia. Ora, questa idea della storia, della storia concepita come evoluzione progressiva, rappresenta un fondamentale ancoraggio del discorso giuridico secondo ottocentesco. Da un lato perché è una sorta di presidio antivolontaristico, cioè preserva l'ordinamento da manifestazioni di volontà che ne potrebbero sconvolgere le strutture portanti. Lo protegge poi da convulsioni regressivo-rivoluzionarie, cioè da due risposte diverse e contrarie che tradiscono questa idea di svolgimento progressivo. Non solo, ma questa concezione della storia è un formidabile strumento per tutelare l'identità della scienza giuridica, per tutelarne il ruolo. Cioè è anche attraverso questa concezione della storia che il giurista si accredita come custode privilegiato di un modello di convivenza, come colui che può vigilare sul rispetto di questa necessaria congruenza tra storia e diritto. Mi spiego? Quindi è il soggetto che vigila, che solca più e meglio del legislatore politico, l'ha il crinale, che lega passato, presente e futuro, che congiunge passato, presente e futuro. Ora, ed è anche, è chiaramente questo tipo di mentalità coinvolge un problema che è sempre capitale per l'ideario giuridico, cioè quello del rapporto tra le diverse fonti del diritto, cioè tra le diverse fonti che, come dire, esprimono la regola giuridica. Cioè, chiaramente il rapporto tra queste fonti non è sempre solo l'esito di una partita più o meno tesa, più o meno, degli esiti più o meno precari giocati tra i vari attori del panorama giuridico, tra il legislatore, il giurista e il giudice, ma è anche una spia molto significativa di come i diversi ordinamenti giuridici concepiscono proprio il rapporto tra tempi storici. Cioè, quali sono le forze della stabilità, quali sono le forze del mutamento, in che relazione reciproca vivono. Ed è anche, alla luce di questi riferimenti, che diventa possibile chiarire il ruolo riconosciuto alla legge. Normalmente si legge che l'Ottocento è l'epoca della celebrazione di un diritto che si esprime soprattutto attraverso la legge. Quest'idea del diritto, del diritto che è soprattutto legge, è un'idea inseguita dalla modernità giuridica per ragioni molto complesse, che appunto non ha senso, non è possibile ripercorrere, ma che appunto sembra trovare il suo momento di massima consacrazione con l'Ottocento. In realtà, diciamo, leggendo, anzi rileggendo per la verità alcune pagine di Maurizio Fioravanti, di Giovanni Cazzetta, ci sono osservazioni molto acute sul fatto che l'omaggio tributato dall'Ottocento alla legge è un omaggio appunto tributato alla legge, ma non al legislatore, che sembra un gioco di parole, ma non è un gioco di parole. Cioè la legge è oggetto di culto, forse anche di devozione da parte dei giuristi, se ed in quanto rappresenti il momento capace di strutturare in un certo modo la convivenza, capace di strutturare in un certo modo i rapporti tra privato e pubblico, tra società e Stato, cioè di consacrare quel patto di non interferenza tra società e Stato che costituiva l'ossatura portante della società borghese. Se la legge fa qualcosa di diverso e di ulteriore, magari è anche bene che lo faccia, deve scattare la vigilanza forte del pensiero giuridico. Cioè il pensiero giuridico che stabilisce se la legge deviante è come, quanto e perché conforme al modello. Quindi non si tratta appunto di un gioco di parole. Ora è proprio muovendo da questo perimetro condiviso di riferimenti, che appunto è un perimetro condiviso proprio alle diverse voci, che diventa possibile ricostruire queste diverse voci sul problema della questione sociale. Ora la risposta di Vittorio Emanuele Orlando e di chi poi ne seguì le tracce è nota. La scelta fu quella di separare nitidamente il momento giuridico da quello politico, il momento giuridico da quello sociale. Cito da Orlando, dice, «Lo Stato si afferma in netta e vigorosa antitesi alla società. Il fatto dell'intervento dello Stato non arriverà mai a mutare in giuridici i rapporti sociali». Quindi l'intervento dello Stato sta fuori dai lidi squisitamente giuridici del diritto pubblico e può delineare i contorni di una nuova scienza, che è la scienza dell'amministrazione, ma non può varcare il cerchio magico della sovranità dello Stato. Dice Orlando, «La genesi dello Stato è autonoma e per sé stante». E poi continua, «I compiti sociali dello Stato non sono essenziali all'idea di personalità dello Stato, essi possono persino mancare senza che quella ne sia scossa». Quindi i compiti sociali possono abitare l'ordinamento giuridico, ma non possono appunto varcare il cerchio magico che consente di spiegare identità e struttura dello Stato. Il fronte dei non-orlandiani, l'indirizzo metodologico contrario, è chiaramente quel settore della scienza giuridica dal quale si leva qualche voce a favore dell'intervento sociale dello Stato. Pensiamo ad Arcoleo o a Ferraris per limitarsi a due nomi di spicco. E questi giuristi, come dire, attingono a una delle grandi idee dell'Ottocento, che è quella della riforma. La riforma, dal loro punto di vista, è lo strumento che consente un'evoluzione non traumatica degli ordinamenti, è garanzia di un progresso, ma ragionato, ragionevole, messa a riparo da sconvolgimenti repentini. Dal loro punto di vista, appunto, repressione e rivoluzione, conservazione ad oltranza e rivoluzione, non sono solo due risposte estreme ed opposte, ma sono quasi due apolidi della storia. Cioè, sono due grandezze, sono due idee fatalmente destinate a soccombere dinanzi alle risorse di progresso di cui disponevano gli ordinamenti e che alla scienza giuridica aspettava di, appunto, mettere a fuoco, di sviscerare compiutamente. Ed era, e nelle loro pagine, è forte il riferimento al metodo di osservazione. Cioè, il diritto si deve fondare anch'esso sull'osservazione dei fatti economico-sociali e anche questo riferimento all'osservazione è un formidabile ancoraggio per legittimare il ruolo della scienza giuridica e anche per accantonare l'idea di un volontarismo politico, di un legislatore che magari imbalia l'espressione di una maggioranza politica passeggera e che può non, diciamo, rispettare questa necessaria congruenza tra diritto ed evoluzione della storia. E dice, l'intervento sociale dello Stato evita di rimettere, cito da Arcoleo, a nuove sofferenze nazionali e sociali la cura di ottenere violentemente dai legislatori ciò che ora la scienza modestamente e pacificamente domanda. Quindi da questo punto di vista la legislazione sociale è vista come un momento di sutura necessario tra ordine e progresso, tra passato e futuro ed è una, diciamo, una risorsa necessaria che deve essere attivata e questo è un altro motivo ricorrente prima che sia troppo tardi è prima che, diciamo, la forza rivoluzionaria delle masse prenda o rischi di prendere il sopravvento. Ora è chiaro che la transizione dal loro punto di vista non si affrontava solo con la legislazione diciamo in senso lato protettiva dal loro punto di vista costituivano elementi portanti, risorse di ordine per esempio le società di mutuo soccorso mai i sindacati che esprimono una vocazione più conflittuale ma le società di mutuo soccorso sì e poi soprattutto sono molto frequenti i riferimenti alla necessità di un esteso piano di lavori pubblici cioè i lavori pubblici secondo un topo stipico dell'ideario liberale sono visti una risorsa di sviluppo e di progresso proprio perché costituiscono un'intelaiatura statuale che però non aggredisce l'autonomia della società cioè aiuta, sostiene la società nel suo libero sviluppo senza soffocarla in quelli che Vidari chiamava nei suoi poco amabili amplessi cioè lo Stato che soffoca la società in poco amabili amplessi quello che è sicuro diciamo è che dal loro osservatorio l'intervento sociale dello Stato si giustificava nella misura in cui apparisse vocato a consolidare le istituzioni liberali cioè l'intervento sociale dello Stato ha una vocazione spiccatamente consolidativa dello Stato liberale e che viene considerata una forma di reggimento politico superiore a tutte le altre sperimentabili dice Arcoleo le riforme sociali costituiscono un completamento indispensabile allo sviluppo e all'esistenza delle libere forme politiche dice lui non occorre far teorico o invocare dottrine basta osservare vedete i motivi che ricorrono la legislazione sociale conclude lui non è un espediente politico ma un vero coefficiente di ordine ora vediamo che queste due diverse voci della gius pubblicistica la orlandiana e la non orlandiana ammettono entrambi che si accrescano i compiti del pubblico ma ritengono allo stesso tempo che questo accrescimento di compiti non alteri le coordinate le strutture di fondo le coordinate genetiche iniziali dello Stato che hanno di fronte e un'osservazione analoga si può fare mi sembra anche per quel lato novatore del discorso giuridico che si occupa invece dei temi del diritto privato e qui cito una frase di Giovanni Cazzetta che mi sembra particolarmente chiara dice gli scritti che a fine ottocento sottolineano l'esigenza di un intervento della legge non valorizzano mai il momento della decisione politica l'intervento sociale del legislatore viene tematizzato come semplice affermazione di una necessità dell'organismo sociale come momento della naturale corrispondenza tra il diritto e l'evoluzione della società cioè anche quando si invoca l'intervento del legislatore sociale è come se il legislatore avesse la strada necessariamente tracciata cioè non potesse che adeguare le proprie leggi a quello che veniva ritenuto lo svolgimento lo stadio di evoluzione dei sistemi giuridici rigorosamente vigilato dalla scienza del diritto e qui avevo deciso di saltarlo ma lo dico in maniera rapida ed è sempre Cazzetta che nota come uno dei grandi riferimenti della scienza del diritto di quel tempo sia il sistema lo dico per i non giuristi il sistema è un'architettura concettuale costruita dalla scienza del diritto e che si ritiene che consenta di una dislocazione diciamo così armonica delle pedine delle parti che compongono il sistema e il sistema è il grande idolo di questo periodo è l'idolo dei innovatori ma anche dei conservatori perché è uno strumento che consente questa preminenza della scienza giuridica si parla di una riattivazione del ruolo politico della scienza giuridica e consente la convivenza non traumatica tra stabilità e mutamento il sistema è una struttura rigorosa ma fluida aperta al mutamento ora quindi alla fine di questo itinerario sto concludendo vediamo come questo giro più o meno diciamo arzigogolato ci porta a vedere l'immagine di una scienza giuridica che si accredita diciamo nella veste di custode di un modello delle sue ineluttabili linee evolutive ora è chiaro che gli scettici sono atterriti soprattutto dalla prospettiva di un intervento sociale dello Stato che soffochi l'autonomia della società che smentisca la conquista recente dell'autonomia che faccia ripiombare che faccia ripresentare forme di controllo autoritario del sociale e quindi riporti indietro alla realtà di ancien regime l'altro timore è quello che si frantumi l'unità del soggetto di diritto quindi che si riporti in auge una strutturazione variamente eccetuale e corporativa dell'ordine sociale che si rifrantumi quell'enorme conquista della modernità cioè il fatto che il soggetto del diritto fosse il chiunque fosse un soggetto unico che non ci fosse più una differenziazione soggettiva del comando giuridico si trova ricorrentemente affermazioni del tipo che non si secondo le quali appunto non si può giustificare l'intervento sociale dello Stato sulla base della considerazione che un soggetto è ricco e l'altro è povero oppure si distingue in mani molto nitida tra la questione giuridica e la questione morale si dice moralmente certi spettacoli certi disagi certe situazioni di disagio sono assai poco gradevoli censurabili ma il diritto è un'altra cosa il diritto non può permettersi di intervenire lì nel rischio di perdere la sua identità moderna la sua di tornare indietro di molti secoli in un batter di ciglia del resto diciamo l'uguaglianza giuridica formale non è un principio che serviva a prospettare una società di uguali la disuguaglianza non solo non è un imprevisto di quella uguaglianza che noi chiamiamo uguaglianza giuridica formale ma che era l'unica uguaglianza all'epoca non solo non è un imprevisto ma non è neanche una condizione o un'evenienza negativa è semplicemente l'esito diciamo variamente argomentato di appunto differenze naturali differenze di razionalità differenze di casualità ora è chiaro che questa legittimazione delle differenze disuguaglianze come voi tutti sapete è ben condita da una retorica proprietaria cioè il proprietario è il soggetto compiutamente razionale perché è previdente perché si occupa il buon padre di famiglia è un soggetto socialmente affidabile un soggetto socialmente collaborativo e mansueto e quindi la proprietà rappresenta una cerniera fondamentale anche tra libertà civili tra virtù civili virtù cifiche e libertà politiche nel senso che per molto tempo con i sistemi censitari elettorali censitari il proprietario è anche l'unico soggetto sostanzialmente ammesso al vuoto ora ed è proprio a partire da qui cito insomma mi riprendo un'espressione di Pietro Costa che si riducono molto le differenze tra individualisti e solidaristi tra oggettivisti e soggettivisti cioè la convinzione diffusa è che il nervo dell'ordine stia ancora gravita ancora intorno alla sinonimia tra libertà e proprietà cioè la proprietà è ancora il miglior sinonimo possibile di libertà individuale e allora qui noi possiamo registrare una conseguenza solo apparentemente paradossale almeno mi pare cioè da un lato l'idea della frantumazione dell'unità del soggetto di diritto è lo spettro anche della scienza giuridica ma allo stesso tempo sembra un po' l'unica risorsa che la scienza giuridica ha a disposizione per mantenere intatto il modello e per fargli solo gravitare intorno una legislazione sociale mi spiego cioè è l'unica strada che ha a disposizione per vedere nella questione sociale un disturbo localizzato localizzabile sebbene potenzialmente infestante cioè per evitare che diventi infestante cioè la legislazione sociale è vero che per la prima volta è una legislazione dello Stato cioè un intervento sistematico un intervento normato ma è anche vero che necessariamente deve essere un intervento selettivo cioè deve avere per destinatari solo certi soggetti deboli o indeboliti i fanciulli i vecchi gli infortunati i malati eccetera ed è solo a questa condizione che sostanzialmente scinde il profilo della soggettività che il nervo dell'ordine l'ossatura portante resta in piedi ed è anche per questo è chiaro che l'Ottocento si tiene a debita distanza dei diritti sociali è una categoria che non gli appartiene non gli può appartenere un conto infatti è prevedere il diritto del singolo alla prestazione prevista da una legge dello Stato a risarcimento in caso di infortunio sul lavoro un altro conto è ammettere che il singolo in quanto tale abbia il diritto di essere tenuto indenne dalle conseguenze di alcune negatività da alcune circostanze sfavorevole della sua esistenza e i diritti sociali stanno fuori dall'orizzonte docentesco perché si hanno come è stato detto natura intensamente politica cioè i diritti sociali costringono a ripensare anche i contorni delle libertà di prima e seconda generazione cioè delle libertà civili e politiche quelli sociali cioè sono diritti e da Weimar in poi il grande problema degli ordinamenti sarà questo che richiedono una scommessa ordinante d'insieme cioè una scommessa disposta a ripensare l'identità di privato sociale pubblico di individuo e Stato a partire dalla percezione del loro legame e non della loro separazione cioè richiede la disponibilità e forse la necessità che è stata nel novecento di disegnare per relazione l'identità di queste grandezze che popolano il campo gius politico e sarà questa come insomma è noto una delle sfide forse la sfida precifua del novecento questa di ridisegnare le relazioni tra privato sociale e pubblico ora è chiaro che nel novecento la questione sociale non perde il suo volto di sfida decisiva per gli ordinamenti anzi la rivoluzione russa aumenta le appreensioni il novecento il secolo delle terze vie si cerca qualcosa di diverso dalla soluzione collettivistica tuttavia diciamo la questione sociale si colloca anche in un orizzonte infinitamente più complesso cioè la questione sociale diventa il tassello di una sfida ordinante più complessiva non diventa il ricettacolo quasi unico delle appreensioni o delle attenzioni della scienza giuridica proprio perché l'ordine novecentesco appare un ordine da costruire nel suo complesso non si parla più o non si parla più tanto di questione sociale la questione sociale è il grande nodo critico della scienza giuridica ottocentesca si parla di crisi la crisi segnala più complessivamente una perdita di coordinate che nasce dal confronto con modalità di intervento dello Stato nel gioco economico profondamente diverse da quelle ottocentesche che nasce dalla percezione della società di massa della carica conflittuale della società di massa che è molto diversa da quella espressa dalla società ottocentesca e che deriva anche dalla scoperta della barbarie del regresso dalla fine di quella concezione ottimistica della storia la scoperta della velocità dell'accelerazione del tempo convulso sono cose su cui ha lavorato molto bene Monica Scioli qualche anno fa e quindi diciamo paradossalmente la questione sociale non è più la prima apprensione però i problemi posti dalla questione sociale rientrano in questa riscrittura complessiva delle coordinate dell'ordine giuridico mi spiego cioè non è più il centro delle apprensioni ma diventa centrale nel riscrivere le coordinate di fondo dell'ordine giuridico cioè diventa una questione su cui si gioca l'identità degli ordinamenti novecenteschi degli ordinamenti democratici sicuramente ma come ci ha dimostrato Chiara Giurgi anche per i regimi totalitari non è difficile insomma si può parlare ormai di stato sociale con significati chiaramente diversi da quelli che assume nei contesti democratici ora è chiaro che resta aperto il problema della scienza giuridica cioè spesso la scienza giuridica non cambia rotta neanche nel novecento cioè resta veramente ostinatamente attaccata a un modo altro di concepire la convivenza e quindi il percorso diciamo della scienza giuridica è molto lungo è molto faticoso anche all'indomani appunto dell'entrata in vigore della Costituzione diciamo l'abitudine a un certo modo di immaginare il campo giuridico è dura a morire noi possiamo trovare un unico indizio di questa crescente però difficoltà a difendere un modello il modello ottocentesco è quello che altre volte ho chiamato l'onere di confutazione del nuovo cioè per la prima volta è necessario spiegare perché il nuovo non convince e soprattutto è necessario spiegare le ragioni del proprio attaccamento all'ortodossia quindi il bisogno di spiegare il perché si difende un certo modello bisogno fino a poco prima impensabile perché appunto era l'ortodossia diffusa tradisce questa difficoltà e prepara il nuovo corso grazie bene possiamo dare avvio alla discussione al dibattito visto che ora è mezzogiorno e mezzo io però mi sederei è un po' Grazie. Allora, questa mattina siamo stati molto alti, diciamo così, quindi mi stavo anche un po' in imbarazzo perché non sono abituato a volare così alto queste sommevette. Ecco, però mi chiedo, qui si parla molto di giuristi, soprattutto nel suo intervento, ma anche in parte nel suo intervento di sordi, soprattutto anche, che in qualche misura riflettono una visione della società, del modo in cui la società può essere regolata, ruolo della categoria all'interno della società. Ecco, l'impressione che poi alla fine, che mi sembra che entrambi avete dato, è quella soprattutto di un tentativo di razionalizzare l'esistente, anche collocando in una prospettiva progressista, di progresso, di avanzamento, eccetera. Ecco, mi chiedo però, in che misura i giuristi sono anche i riformatori? Ovviamente che, ripeto, abbiamo dato molto altro, abbiamo citato Orlando, Arcoleo, insomma, grandi nomi, ma a un gradino più basso. Ecco, il riformismo, per esempio, io penso a Crispi, possiamo citare l'Italia, in che misura certe misure di riformismo nascono anche dentro l'ambiente giuridico, oppure certe leggi, tipo la società pubblica, nascono in realtà perché i medici a un certo punto dicono che bisogna sviluppare l'igiene pubblica e quindi il giurista viene dopo, poi in qualche modo razionalizza. Questa, per esempio, è la domanda. E un'altra questione che in parte contraddisce la prima domanda e che però mi sembra che stamattina non è stata molto toccata, è la dimensione un po' del dibattito internazionale. Cioè i nostri giuristi italiani, insomma, si parla essenzialmente d'Italia, poi avevano, sappiamo, fittissime relazioni con il resto del mondo, il resto dell'Europa. E questo spiega perché, appunto, in Italia a volte nasce un dibattito rispetto a una realtà che ancora non esiste, ancora non si è verificata e quindi si parla di, appunto, di embrioni di diritti sociali prima intervento dello Stato, in una situazione che in Italia rispetto alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra o il Belgio deve ancora conoscere. Infatti, secondo me c'è anche una discresia molte volte fra i tempi, fenomeni sociali che avvengono in realtà nel Novecento e legislazione che paradossalmente delle volte addirittura precede il fenomeno sociale. In Italia, effettivamente, a fine Ottocento questo succede. Bernardo? Bernardo? Ti cedo la risposta almeno iniziale su Crispi. Per esempio, il riferimento alle riforme Crispine, anche quando facciamo a suo tempo tutta la ricerca ISAP sulle riforme Crispine, diciamo questa visione che certo per noi ovviamente è letta da chi si trova, come dicevi giustamente, a razionalizzare una molteplicità di interventi a pari unitaria e poi invece nel farsi si muove attraverso spinte che sono molto diverse l'una dall'altra e quindi proprio quella ricerca dimostrava come, certo sì, si poteva come sintesi parlare di una seconda unificazione amministrativa perché in qualche modo tanti terreni normativi venivano doppiati rispetto all'invento del 65, però è anche vero che questo avveniva su sentieri largamente differenti l'uno dall'altro, oltre appunto a trovare una serie di esiti e di percorsi diversi da quelli del 65, a partire appunto dalla legge sulle casse di risparmio o sulla legge sulle IPAB, dove evidentemente si entrava in una prospettiva assai diversa da quella del 65, per cui certo che alcuni settori con quella giustizia amministrativa o della legge comunale e provinciale si muovevano in una necessaria aggiornamento, anche la legge di polizia per certi aspetti, insomma si muovevano in un necessario aggiornamento delle scelte fatte all'unificazione, sulla base poi di dibattiti, anche questi non sempre portati avanti agli stessi protagonisti, perché la giustizia amministrativa ha un suo percorso abbastanza caratterizzato anche tecnicamente, altra cosa è il tema del self-cavenant o delle autonomie e altro, quello della polizia, ma direi più che altro quello del percorso delle IPAB, ci fa forse uno degli interventi più significativi proprio sul di transizione in qualche modo, perché lì si vestiva di pubblicità una situazione esistente e si iniziava a modificare la natura giuridica di quei corpi morali che sino a quel momento si erano classificati, in base all'articolo 2 del codice Pisanelli, come appunto quelle persone giuridiche private, quelle pochissime persone giuridiche private che avevano una lunga vicenda storica, spesso precedente ovviamente quella dello Stato e che si era trovato poi questo ordine giuridico ad accogliere al suo interno. E questo rimane certamente analizzarla uno dei passaggi più importanti, perché il grosso nucleo delle IPAB veniva poi proiettato in funzione di una politica di assistenza e di compiti sociali, ma sfruttando un patrimonio già esistente anche dal punto di vista di soggetti, di comunità, di associazioni fraterniche, di laici, di varie e più diverse tipologie che però si trovavano, ecco l'interesse del giurista, il fatto che poi qui cambiassero la loro natura, si trovassero inseriti in uno schema dove l'amministrazione prefettizia giocava un ruolo essenziale, dove i meccanismi di controllo, specialmente sui bilanci, si facevano particolarmente serrati. Quindi questo certamente, come dicevo anche prima, è chiaro che nel momento in cui si passa da una chiacchiera tipologica alle circostanze come effettivamente si svolgono, il passaggio ovviamente si frantuma e deve seguire sentieri particolari, un conto poi è il discorso inaugurale di Spaventa, la quarta sezione, altro evidentemente è il percorso delle altre legislazioni crispine. E' vero anche questo del dibattito internazionale, certo, che anche qui dal punto di vista dei giuristi credo l'ha visto un po' a doppia faccia, è chiaro che per esempio in alcuni casi il dibattito talvolta pende dalle labbra della diffusione internazionale, il tema giustizia amministrativa è uno di questi dove gran parte delle novità che maturano fra 65 e 89 si vestono poi di argomenti se non altro che vengono da un germanismo amministrativo all'epoca del tutto inedito, anche se poi gli esiti istituzionali sono interni, sono interni al Consiglio di Stato e quindi è un percorso già ampiamente solcato in passato. Però ci sono anche delle improvvise difetti di circolazione, cioè non tutto circola, per esempio è incredibile la scarsissima fortuna che Diughi ha in Italia. Diughi, Leon Diughi che è un personaggio che al contrario ha una circolazione inglese importante all'LSI, insomma a London School che viene tradotto, che ha in Lasky un personaggio che lo diffonde anche in terra inglese, in Italia proprio perché ha osato a tentare al concetto sull'anità dello Stato di persona giuridica dello Stato è un personaggio diciamo che non entra assolutamente o quasi per niente nel dibattito giuridico italiano, questo per esempio crea anche dal punto di vista della scienza giuridica un attardamento non irrilevante, voi considerate che la prima monografia sui servizi pubblici in Italia è quella di Potoschning, siamo una provvisoria fino agli anni 50, è una monografia dell'inizio degli anni 60, quando la Francia ha già affrontato il problema della crisi del servizio pubblico degli anni 50, quindi questo per esempio crea un'estrema difficoltà per i giuristi italiani di affrontare, penso principalmente agli amministrativisti, di affrontare questa dimensione delle prestazioni, questa novità delle prestazioni, quindi non sempre circolazione poi significa, diciamo sì è vero che lì bisogna distinguere evidentemente caso per caso, però su una categoria generale come quella di servizio pubblico in sostanza dobbiamo aspettare il 43 della Costituzione e poi il lavoro che sull'articolo 43 si fa per avere poi in tempi veramente recentissimi come appunto una prima indagia, Santi Romano che pure è persona ovviamente perfettamente in grado di capire le novità di quello che è in corso, allievo non a caso di Orlando, si muoverà su una teoria delle prestazioni dei soggetti amministrativi, quindi su un modello molto diverso da quello del servizio pubblico, cioè su un modello che riduplica l'obbligazione civilistica, riduplica il rapporto individuale, non coglie l'aspetto diciamo di servizio appunto pubblico ad una massa indistinta di beneficiari, quindi questo rende poi complesso e diciamo avvalora questo muoversi appunto della tematica sociale sempre su un confine se non proprio pregiuridico ma certamente di, che richiede una legittimazione giuridica, ecco e anche questo è un aspetto che fa riflettere e che va messo poi nei percorsi europei dello Stato Sociale. Io volevo porre tre domande e questioni a tutti e tre i relatori. Dunque, partendo dal Professor Zordi mi chiedevo se quell'intreccio tra Stato imprenditore e Stato Sociale non sia molto evidente in particolare nell'articolo 3, che d'altra parte è stato scritto proprio da Massimo Severo Giannini come mente pensante. Questa come prima questione perché in fondo lì ci sono entrambe le tipologie di un intervento pubblico. La seconda domanda per Irene, giustamente tu mettevi l'accento su questa identificazione tra diritto e legge, che è stata una delle più grandi questioni. Mi chiedo se non è un caso che poi sono stati soprattutto i costituzionalisti, ad oggi quello che l'ha spiegato con maggiore forza sicuramente Zagrebbeschi, che hanno invece molto forzato, non forzato in senso positivo, che hanno molto sottolineato questa anche in maniera polemica rispetto a un continuo uso del diritto uguale legge, rispetto invece alla riscoperta di un diritto come lui lo chiama Giano Bifronte, cioè che tiene insieme tanto la legge, tanto la forza, quanto però anche l'aspetto della giustizia, quello che appunto lui chiama la legge di Creonte e il nomos di Antigone, e quindi le aspettative di giustizia, e in questo senso quindi se non sia la Costituzione che forse prenderei anche come un'istituzione fondamentale, rispetto anche al paradigma dello Stato, che permette di puntare con forza la Costituzione e il costituzionalismo novecentesco con tutte le novità che sono anche state sottolineate questa mattina, su quello che sono anche le aspettative di giustizia, sullo IUS, su appunto il lato materiale del diritto. E sempre Irene, tu giustamente dicevi lo Stato sociale anche come intervento selettivo nel paradigma tardo-ottocentesco, ecco mi chiedo se anche poi successivamente non sia un intervento selettivo, appunto di grande compromesso che infatti non a caso si dà soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo quando si riformula come spiega Maier un contratto sociale tra cittadini e Stato, un grande strumento che tutte le volte agisce secondo un paradigma di inclusione differenziale, cioè è selettivo, include, ma ha anche continuamente differenze ed esclude, che secondo me poi è il grande paradigma attraverso cui ha funzionato anche la cittadinanza. Infine, il Professor De Santis, due cose, dunque è Machiavelli che parla per la prima volta dello Stato, visto che non è OBS, contrariamente a quanto uno incline a pensare. E la seconda, se ho capito bene, lei giustamente diceva, era una domanda che lei si poneva, non tutti i diritti fondamentali sono sullo stesso piano. Io su questo sono, se dovessi rispondere, direi che sono molto d'accordo, alcuni giuristi, penso costituzionalisti, l'ultimo Gaetano Azzariti, hanno proprio posto la necessità da una parte di una maggiore politicità del diritto in qualche modo, e questo è anche il bersaglio polemico di Giovanni per l'appunto, diritto contro diritti, questa perdita di natura politica anche del diritto e al tempo stesso il fatto che forse sia necessario, a differenza di come forse ultimamente viene fatto anche da un certo costituzionalismo multilivello europeo, invece ricreare una gerarchia nei diritti fondamentali, per cui appunto l'articolo 3, non perché io sia la fan dell'articolo 3, però ha una gerarchia, è un pilastro fondamentale dell'ordinamento, forse questo livellamento dei diritti che in Europa negli ultimi 20 anni ha avuto anche degli effetti invece negativi, questa specie di indistinzione, mi chiedo se rispetto alla sua giustissima domanda non sia il caso di riprendere in mano anche una gerarchia dei diritti fondamentali, per evitare invece queste scoloriture per l'appunto, queste asciugature come le chiamate Giovanni, anche della sovranità politica. Inizio dalla seconda domanda, questo intervento selettivo, è selettivo anche dopo dello stato sociale, sì penso di sì, però è fondato secondo me su presupposti profondamente diversi, cioè lo stato sociale entra, non lo stato sociale, l'idea che ciò che è legato ai compiti sociali entri nel paradigma fondativo della convivenza democratica, fa in modo di legare questi interventi ad alcuni concetti chiave mi sembra del costituzionalismo democratico, uno e la dignità, è stata ricordata stamani, sono i diritti sociali, i diritti sociali è stato detto, io sono molto d'accordo, che devono essere considerati come diritti presupposto, non come diritti aggiunti, cioè storicamente è vero che è l'ultima categoria di diritti a comparire, ma sono diritti presupposto nel senso che un individuo, voglio dire liberato in qualche modo dal bisogno, liberato dalla paura, è anche un soggetto veramente in grado di esercitare in modo libero e responsabile le libertà di prima generazione, un soggetto banalmente meno ricattabile. E poi chiaramente l'altro grande pilastro è quello dell'uguaglianza sostanziale, cioè la grande scoperta delle democrazie è che un diritto giusto può e spesso deve essere un diritto non uguale, non so come dire, e questo chiaramente però colore in maniera molto diversa la prospettiva dell'intervento selettivo, non è la protezione di alcune fasce, di alcune zone turbolente della convivenza, ma questi riferimenti conferiscono alle politiche anche sociali una vocazione abilitante, emancipatoria, non so come dire, una dimensione di crescita individuale e sociale che era del tutto, mi pare, stranea al punto di vista ottocentisco. Sono invece meno sicura di aver capito la prima domanda. Questo discorso del diritto della legge, che è stato messo in discussione da più di un punto di vista rispetto a questa affermazione diffusa, che da un certo punto in poi diritto uguale legge e tutto ciò che vive a valle della legge in una posizione di necessaria sudditanza. Ora è chiaro che quello che in maniera molto semplificata ho cercato di dire, cioè questa ricerca di ancoraggi, un ancoraggio importante della storia, una certa idea della storia, così come vigilata e controllata dai giuristi, non è solo una formula, non dico teorica, ma non è solo un intrattenimento intellettuale, ma serve a ancorare, a stabilizzare un certo ordine, a mettere a fuoco un'idea di Costituzione in assenza di dispositivi formali di rigidità costituzionale. Quindi a leggere un giurista ottocentesco non è così scontato che lo statuto è una Costituzione flessibile, altra cosa è vero che non ci sono strumenti formali di rigidità costituzionale, ma è vero anche che la rigidità e flessibilità sono due nozioni correlative, cioè ci sono delle dimensioni, la dimensione costituzionale è la dimensione di organamento fondamentale di una convivenza e si nutre anche quella dell'impasto tra rigidità e flessibilità. Ora è chiaro che poi la Costituzione con tutta l'altra fisionomia che ha nelle democrazie, quindi è una Costituzione rigida eccetera, è chiaro che assume o dovrebbe assumere anche un'importante forza normativa e forza di indirizzo, è chiaro quindi che dovrebbe essere anche il posto a partire dal quale si realizzano anche quelle che tu chiami le aspettative materiali di giustizia, cioè quella dovrebbe essere la sua funzione e poi si apre, però il grande capitolo, il grande problema dell'attuazione costituzionale, nel senso che questa Costituzione immaginata come capace di vedere lontano, lo ha detto bene Bernardo Sordi, poi tende a diventare miope, cioè che invece vede molto male lontano, se non è sostenuta da un processo costante di attuazione, cioè se non è portata responsabilmente, messa in grado di vivere in diversi tempi, certi valori sono molto forti, ma le soluzioni per garantire essi un'esistenza non solo formale devono, possono e devono cambiare, è chiaro che se manca questo motore attuativo che in Italia forse doveva essere svolto dai partiti e che forse è stato svolto in maniera deludente, poi anche la Costituzione si deperisce, insomma, è questo… Sì? Si sente? Vieni qua, mi senti me. No, io sono bellissima perché le domande, come tutte le domande puntuali esigono una risposta puntuale. Dunque, la prima risposta è certamente sì, Machiavelli lo dice nelle primissime battute del Principe, dove però è stato ancora una configurazione semantica di condizione politica, quindi le condizioni politiche possono essere o repubbliche o principati e quindi dal punto di vista della nostra lingua possiamo dire che lì c'è la radice, una radice che però poi diventa in un certo senso europea, però in tutti gli scritti latini che perdurano per molto tempo dopo Machiavelli e quindi in Oms, Spinosa, Puffendorf, è chiaro che noi non possiamo trovare un termine così ambiguo in latino come status, che significa cose completamente diverse, per cui la troveremo sempre o Civitas o Respubblica. Tenete anche presente che il Respubblica ha questo compito enorme di portare su di sé una tradizione tale che permette di tradurre Politeia di Platone con Respubblica, che è un delitto spaventoso dal punto di vista semantico e noi ancora usiamo a chiamare quel dialogo di Platone Repubblica, ma è colpa dell'influenza di Cicerone su un Medioevo che poi traduce con il termine romano un termine che in greco voleva significare tutta un'altra cosa. Quindi certamente dobbiamo a Machiavelli di questo lemma, ma ripeto, le traduzioni, per esempio Bobbio che fa una traduzione meravigliosa del Decide, continuamente usa la parola Stato, ma nel Decide noi la parola Stato non la troviamo e così anche per altri come Althusius e gli altri autori che dovunque si scriva in latino. Per quanto riguarda il problema sui diritti fondamentali, ho l'impressione che una buona parte della risposta che avrei dovuto dare io l'ha data Irene sul problema del presupposto, cioè i diritti sociali anche a mio avviso, ma anche a viso di persone effettivamente competenti sul punto non possono che essere, ancorché laddove apparivano di ultima generazione, perché noi sappiamo che oggi esistono diritti ambientali, che rappresentano generazioni ancora successive, ma dove appariva l'ultima generazione appariva soltanto per un fatto cronologico, ma non per il valore di presupposto che come dice la parola ogni presupposto è sempre messo dopo, prima, mai prima, dopo. Quindi sta sempre a monte per così dire, quindi come è possibile, si vedeva Marshall e con lui poi Darendorf, come è possibile poter fruire della libertà e della partecipazione se non ho una vita che mi permette le scelte possibili di partecipare, quindi in un certo senso la stessa libertà borghese, tra virgolette, non può che essere tale se non attraverso la soddisfazione di determinati bisogni che ne rendono possibile l'uso, non a caso rispetto alla devise repubblicana, libertà, uguaglianza, fraternità, i tedeschi che sono più concreti parlano di Bildung und Besitz per rappresentare quel nucleo fondamentale della dignità, il nucleo fondamentale di diritti che poi danno la dignità. Allora i diritti fondamentali sono sullo stesso piano, per molti versi ha ragione Gino De Giovanni quando dice che l'ipertrofizzazione dei diritti sminuisce il ruolo della politica, nello stesso tempo però la contrapposizione tra diritti è sempre un'operazione politica ed è sempre un'operazione politica che ha accompagnato tutta la storia dei diritti fondamentali, anche all'origine quando non si parlava di diritti sociali ma si parlava di diritti civili e politici, la contrapposizione era fortissima e infatti dicevamo stamattina un tema che si pone dopo la rivoluzione è la questione della democrazia, la democrazia è un fenomeno sociale per il quale basta il code Napoleon e i diritti civili o è un fenomeno politico per cui c'è bisogno anche di diritti di partecipazione e quindi diritti politici? Su questo lo scontro è secolare e fortissimo, non ne parliamo quando il problema dei diritti sfiora appunto il problema della questione sociale, la questione sociale è nodale proprio perché sulla questione sociale si gioca da parte di coloro che pensano che i deboli abbiano dei diritti, coloro che sono a rischio hanno dei diritti, pensano che alla questione sociale si possa rispondere soprattutto con una rivoluzione nuova che si chiama rivoluzione sociale e che è una rivoluzione che nell'elemento distruttivo distrugge e l'individuo proprietario e lo Stato che lo difende. Questo per quanto riguarda appunto i diritti sociali per cui il riformismo che appare a partire dall'800 in relazione alla questione sociale è proprio la medicina antirivoluzionaria, addirittura autori come Lorenz Stein usano un linguaggio medicale, patogenesi, terapia, rispetto alla patogenesi del mondo industriale che crea artificialmente povertà, esclusione, la terapia non è la rivoluzione sociale ma è la riforma sociale che a quella si contrappone. Quindi diciamo che la indivisibilità dei diritti fondamentali non necessariamente indebolisce la politica, anzi una visione radicale su questo punto potrebbe essere il luogo di una politica fortissima a mio avviso. Grazie Silvio. Rapidamente sul tema dell'articolo 3, quindi è certamente una grande tematica questa anche della prospettiva di un utilizzo in chiave democratica della regolazione economica e che è una stagione importante in fondo specialmente del nostro secondo dopoguerra, se si pensa al piano Vanoni, se si pensa all'istituzione dell'Eni nel 1953 o dell'Eni nel 1962, quindi sono tutte vicende che certamente fino alla nota di Lamalfa, sono certamente una pagina forse anche troppo rapidamente dimenticata dal presente. Due osservazioni mi sembra di poter fare, una è che anche in questo caso il panorama costituzionale del secondo dopoguerra non è identico, quindi noi abbiamo un testo costituzionale dove anche per la forza delle compenetrazioni fra Stato e Economia del periodo precedente il tema di una politica economica a forte guida pubblica è un dato che emerge dal testo costituzionale, un testo che come poi si è fatto notare negli anni 90 non contiene la parola mercato, non contiene la parola concorrenza, quindi c'è un testo che nasce ovviamente in un'altra idea di rapporti fra Stato e Economia, però questo non è vero per tutte, perché la Costituzione federale è tendenzialmente neutrale sul punto dei rapporti Stato-Economia, l'Economia sociale di mercato è un'acquisizione negli anni 50 ma che viene un po' all'atere del testo costituzionale, lo stesso anche la Francia della Quarta Repubblica, certamente l'interventismo è pesantissimo dall'Air France all'ENA, all'Età Menager, però ci si muove sempre in una chiave parallela a quella della Costituzione, è la nostra che ha un modello di Costituzione economica molto determinato, che poi ha portato a letture anche storicamente contestualizzate molto diverse, alcune norme chiave, 41 in particolare con anche oggetto in passato di proposte di modifica sulla sua propria formulazione testuale. Quindi questo ci fa vedere come il problema non sempre trovi un approdo di Costituzione economica, dall'altra c'è anche il fatto che questo interventismo è vicenda che, come è noto ancora di più a voi, che parte assai prima ovviamente degli esiti costituzionali e quindi penso, non so, a un testo formidabile, quello della legge bancaria e quindi al ruolo del gruppo Beneduce nell'elaborazione della legge bancaria come ordinamento del settore è una prospettiva che segue poi tutta, quindi tra 26 e 36, che poi di mezzo ha ovviamente il grande crollo di Wall Street, ma insomma è tutta una vicenda dove l'aspetto di un utilizzo in chiave di ugualianza sostanziale dello strumento economico non compare, lì c'è proprio un problema di funzionamento di un mercato particolare, qual è quello creditizio in un sistema di economie chiuse come era quello di allora, la direzione di una banca centrale e quindi tutti gli strumenti di controllo del credito. Il 47 della Costituzione sarà una norma in realtà esemplata in assoluta continuità con gli anni 30, quindi quella sul risparmio della Costituzione, quindi proprio assegnare un combinarsi e d'altra parte l'Italia arriva alla Costituente con una mano pubblica fra le più pesanti di tutta Europa e quindi questo è un profilo che poi comunque rileva anche dal punto di vista delle dimensioni dell'intervento pubblico, per cui l'intervento pubblico ha una storia che precede la Costituzione, c'è una stagione in cui la Costituzione pensa o parte dei Costituenti pensano di poter fare inclinare la politica economica verso anche una democrazia e l'economia, però poi il ritorno della realtà sarà brusco da questo punto di vista e anche già nel corso degli anni 60 il processo subisce un rapido declino specialmente dal punto di vista della programmazione economica. C'era... C'era... No, forse... 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 Ci vediamo... E che oggi pomeriggio sarà più di carattere storico, doveva presiederla Luca Baldissara che evidentemente non sono io, ma ha avuto un impedimento di lavoro e quindi continuerò io. La prima relazione è al Professor Simone Duranti, l'Ispettorato Corporativo del Lavoro, progetti di riforma tra propaganda e controllo politico. Non so perché... C'ero io, sì, da scaletta. Grazie tante dell'invito innanzitutto, perché si tratta anche in questo caso, come prima diceva Irene, di provare a formulare alcune ipotesi di lavoro o comunque a fronte di una serie di ricerche archivistiche che ho condotto nell'ultimo anno e mezzo, cercare di proporvi alcune suggestioni, qualche stimolo di riflessione che magari può essere anche in maniera utilitaristica utile per me per poter avere altri stimoli di ricerca e di lavoro. Mi sono avvicinato alla questione dell'Istituto che persiede al rilevamento delle condizioni di lavoro nelle aziende e quindi all'Ispettorato Corporativo del Lavoro nel momento in cui ho provato a fare uno sbancamento archivistico, l'archivio centrale dello Stato sui fondi legati al Ministero delle Corporazioni. Cominciando a rendermi conto fin da subito che non è semplice fare una rilevazione a partire dagli archivi centrali sui Ministeri economici per la loro difficoltà di catalogazione delle fonti e l'estrema dispersione che questi fondi hanno avuto. Di conseguenza ci sono tantissime lacune e non è semplice recuperare soprattutto le risposte che il Ministero si attende, che i vari Ministeri economici si attendono durante il ventennio fascista dalla periferia. Di conseguenza cercherò soprattutto di riflettere su alcune mentalità che sono conseguenza di alcuni linguaggi che si ritrovano in una serie di relazioni peraltro abbastanza anche tecniche che troviamo all'interno del tentativo di riforma dell'Ispettorato Corporativo del Lavoro a partire dal 1929. Cominciamo facendo una riflessione abbastanza veloce su che cosa abbiamo relativamente alla lunga fase di incubazione del ragionamento sulle corporazioni. Chiaramente bottai il capofila di una visione etica che da un punto di vista di assunzione di responsabilità dello Stato fascista deve portare ad una assunzione di responsabilità dal punto di vista del padronato. Su questo bottai sarà particolarmente risoluto in una discussione che viene tenuta alla Camera nel 1932 e che avrà un eco abbastanza forte qui a Pisa quando nel sudseguente aprirsi dell'anno accademico nel 1933, bottai che è dietro alla direzione di quella che oggi è la scuola superiore Sant'Anne che all'epoca era il collegio Mussolini di studi corporativi, lui si insedia nella mattinata di apertura dell'anno accademico sostenendo che gli studenti di studi corporativi devono essere i capofila di un nuovo modo di intendere la moralità dello Stato della gestione dei rapporti e di lavoro fra padronato e forze sociali. Quindi la prima questione che si pone, mettiamo dei paletti temporali, il tentativo di riforma dell'ispettorato del lavoro sono tre, il 3031, il 3637 e il 42 con tutte le peculiarità che il tempo di guerra rappresenta chiaramente. L'aspetto forse principale che ricorre in tutti questi tentativi di riforma è di affermare fin dall'inizio che siamo sotto un feroce ed occhiuto controllo da parte del Ministero delle Finanze che impone di non aumentare le spese, di conseguenza tutti gli estensori delle relazioni che voi troverete di tentativo di riforma dell'istituzione corporativa, in particolare l'ispettorato corporativo del lavoro, tendono a ribadire che le risorse non saranno mai cercate all'interno di nuovi capitoli di spesa dello Stato. Questo significa che quali saranno, vi vado semplicemente ad elencare quelli che sono secondo Bottai e secondo il successivo Ministro Ferruccio Lantini, i luoghi dai quali ricevere soldi per il funzionamento dell'ispettorato corporativo. I contributi vengono ovviamente dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contributi che provengono dalle casse per gli infortuni agricoli, contributi speciali dello Stato, definiti così genericamente, e il fondo speciale delle corporazioni, istituito appunto nel 1936 da Lantini. Cosa c'è in ballo essenzialmente? Una questione eminentemente interna alle carriere ministeriali e quindi la dignità e il ruolo dei funzionari dell'ispettorato del lavoro, questa è la prima cosa che tutti i progetti di riforma cercano di mettere in evidenza e il secondo aspetto è invece il cercare di spostare in una maniera piuttosto precisa l'attenzione della fase ispettiva dal controllo delle adempienze o meno delle forze padronali nei confronti degli operai e del vasto retroterra agricolo a fronte delle riforme e della tutela del lavoro, passare da questo tipo di rilevamento a invece un aspetto ben più tecnico e di interesse ministeriale, cioè vedere i capitoli di spesa delle singole aziende, come i bilanci vengono redatti e dare carta bianca di conseguenza agli ispettori per poter entrare concretamente nelle caratteristiche di spesa e quindi dei costi che vengono soprattutto in tempo di guerra stabiliti dalle compagnie in maniera privata nel momento in cui si relazionano con lo Stato, quindi è in questa evidente differenza di funzione che si gioca buona parte del ruolo dell'ispettorato del lavoro e la cosa che mi è sembrata più interessante, lo vedremo da una serie di riferimenti precisi che fanno alcuni funzionari, la cosa che forse è più interessante è vedere come l'elevazione di status del funzionario dell'ispettorato corporativo è fondamentale per potersi inserire da un punto di vista di autorità all'interno di un dibattito che rappresenta nel quotidiano l'oggetto del contendere fondamentale, cioè dare all'ispettore di turno sufficienti strumenti per poter imporre alla singola azienda determinate direttive. Diciamo che Bottai si distingue per risolvere di imperio a un certo punto, siamo appunto nei primi anni 30, nel 32, una questione che gli viene sollevata dal Ministero delle Finanze, cioè questa volontà di aumentare, innanzitutto faccio una premessa, stiamo parlando di un ispettorato del lavoro che ha un numero di impiegati e di funzionari che non supera le 500 persone nei primi anni 30, di conseguenza parliamo di una struttura che è anche largamente velleitaria, come ricorderà Lantini, cioè è difficile controllare un territorio, è difficile poter condurre ispezioni nel momento in cui il personale è così limitato e soprattutto i centri radianti sono così pochi. un dato concreto, per l'intero mezzogiorno le uniche due sedi dell'ispettorato corporativo per l'intero mezzogiorno d'Italia saranno Bari e Napoli, di conseguenza gli ispettori che fanno capo a Bari e Napoli devono controllare l'intero mezzogiorno d'Italia. Un altro caso particolarmente spinoso, un luogo così denso di attività industriale come Genova dipende da Torino, di conseguenza non ci sono funzionari in luogo. Questo significa avere, come vi dicevo, non più di 500 persone che devono garantire non soltanto la presenza negli uffici, ma anche svolgere ovviamente attività inquirente. Bottai spinge per la promozione di grado di carriera i funzionari e di portare gli ispettori al ruolo anche in questo caso di fascia A, di conseguenza di essere con un trattamento economico migliore ed uno status impiegatizio migliore. Di fronte alla ovvia contraddizione che questo determina, cioè arrivare ad avere praticamente una struttura fatta quasi integralmente di funzionari, ci si trova di fronte alla risposta abbastanza seccata di Bottai che dice il Ministero delle Corporazioni per sua natura intrinseca, talmente etica e talmente speciale, lo configura in una maniera che non può ricevere nulla del tradizionale concetto piramidale. Qui non esiste un concetto di radiazione del potere da un vertice ministeriale alla sua base, siamo praticamente tutti informati dallo stesso tipo di missione, di conseguenza abbiamo più o meno tutti all'interno di questa struttura lo stesso potere e le stesse prerogative. Questa è forse una delle cose su cui Bottai insiste di più e nelle fasi successive con gli altri ministri, quindi con Lantini e poi con Ricci in tempo di guerra, si ribadisce sempre questo concetto, la natura speciale del Ministro delle Corporazioni. Le questioni fondamentali sono non soltanto quelle che ho provato a enucliare adesso e quindi in buona parte la difesa di un determinato tipo di status e l'aumento del personale, ma c'è una questione ancora più importante, quella della abolizione di un istituto che era considerato piuttosto importante nel prefascismo, cioè l'associazione sugli infortuni e di conseguenza il rilevamento, il passaggio di tutte le sue funzioni all'ispettorato del lavoro. Quindi un'associazione sugli infortuni che, come ricordo una relazione dei primi anni 30, era nata alla fine dell'Ottocento proprio nel momento in cui si facevano obbligatorie le assicurazioni sugli infortuni in ambito industriale, se non ricordo male il 1897. C'è una relazione del quale vi volevo citare un paio di passaggi, secondo me abbastanza illuminanti, con la quale si cerca di opporsi all'idea di avocare all'ispettorato del lavoro che si fa sempre più elefantiaco, a fronte però di un numero limitato di funzionari. In questa relazione che si intitola Sulla opportunità della proposta di soppressione dell'Associazione Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, si sostengono questi principi di partenza. Dal 26, quindi nella parte precedente della relazione si ricorda la genesi di questo istituto, arrivati al periodo fascista si ricorda questo, il governo ha ritenuto la necessità di assicurare con mezzi idonei la precisa osservanza da parte di tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione in fortuni, tanto industriali che agricoli, delle norme di prevenzione e considerata l'impossibilità per insufficienza di mezzi di raggiungere lo scopo mediante più largo impiego in questo campo dell'ispettorato del lavoro, decise di trasformare l'Associazione da volontaria in obbligatoria, estendendo nella sfera di azione anche alle aziende agricole, sviluppandone le attribuzioni di carattere scientifico, propagandistico e di indagine e demandandola la funzione di vigilanza con tutti i poteri degli ispettori statali. Ora, c'è un ambito molto particolare in cui questi personaggi che facevano parte, si parla di 90 tecnici, di 13 sedi regionali che svolgevano il lavoro di sensibilizzazione sul territorio relativo alla prevenzione degli infortuni, ma questi personaggi svolgono un ruolo interessante, c'è un po' di letteratura in proposito che lo documenta, in sede di Società delle Nazioni nel momento in cui si discute proprio di caratteristiche del lavoro salariato e di come poterle tutelare. Quindi quello è uno degli ambiti forse più interessanti in cui il progetto corporativo attraverso questi personaggi, già prima che questa istituzione venga demolita e inserita all'interno dell'ispettorato del lavoro, svolgeva un ruolo abbastanza efficace di sensibilizzazione internazionale sulle presunte bontà della terza via, come ricordava prima Irene. Quindi diciamo che la struttura che sovrintendeva quindi fino al 30-31 a questo tipo di rilevazione sugli infortuni e soprattutto alla loro prevenzione, tende a difendersi da un punto di vista, questo è molto comprensibile, si cerca di difendere il lavoro svolto e si cerca di ricordare quello che si è fatto di buono durante gli anni venti del fascismo. Si conclude in questa maniera, il direttore dell'associazione dice questo, distruggere ora questo organismo che ha già dato notevoli frutti sarebbe inopportuno per le seguenti ragioni, per quanto si intende sviluppare gli attuali servizi dell'ispettorato corporativo, essendo questo chiamato ad attuare scopi numerosi e vastissimi, non potrà mai raggiungersi un'estensione del servizio di vigilanza e prevenzione come quello conseguito dall'associazione, che invece è suscettibile nel tempo di sempre maggior incremento e perfezionamento. La questione che viene rilevata in più occasioni è quella di mantenere una struttura ispettiva e di sensibilizzazione sul problema degli infortuni che sia super partes, cioè che non venga attraverso il Ministero delle Corporazioni demandata nuovamente alle strutture industriali e lo si dice chiaramente, siano scettici sulla possibilità che l'ispettorato così tanto accresciuto di funzioni possa avere al suo interno funzionari e personale tecnico specializzato per approntare nuove normative e soluzioni in ambito di prevenzione degli infortuni. Si conclude in una maniera abbastanza piccata, abbastanza dura e la propaganda dovrebbe affidarsi soltanto agli organismi sindacali e ideatori di lavoro, ma con quali garanzie di attività e di unità di indirizzo? Queste sono le domande che si fanno a Bottai, per le quali i fondi archivistici non danno assolutamente risposta, si trova a un certo punto semplicemente la fine di questa struttura e quindi abbocare tutte le sue funzioni direttamente all'ispettorato del lavoro. Un ispettorato del lavoro che nei primi anni 30 si dota di un personale molto particolare, cioè vengono inseriti all'interno della struttura che deve fare le ispezioni i carabinieri, di conseguenza si militarizza in parte la struttura dell'ispettorato del lavoro con funzioni ovviamente di non solo di controllo, ma anche di volontà di comando e di conseguenza portare sui luoghi di lavoro una certa autorità che dovrebbe essere conseguente di questo senso nuovo di status che ha quindi la corporazione. Quando uno ha visto una serie di materiali come questi si pone immediatamente un altro tipo di problema, che mentalità hanno a questo punto i funzionari che si spostano provincia per provincia e cercano in qualche forma di indagare le caratteristiche del lavoro salariato, di quelle che sono le sue ricadute a livello sociale, a livello economico e chiaramente, secondo ancora quella che è l'impostazione bottagliana, la salute della stirpe che si trova, come ricordava Bottai, anche all'interno dei luoghi di lavoro, che deve essere tutelata anche all'interno dei luoghi di lavoro. La risposta non è semplice perché non abbiamo molti profili di questi personaggi, la cosa che per adesso sono riuscito a stabilire è l'assoluta impossibilità da parte, ma questo è comprensibile, da parte degli ispettori che vengono inviati a visitare aziende importanti, trovarsi di fronte ad un atteggiamento evidentemente ostativo da parte delle dirigenze. Questo nonostante che l'ispettorato corporativo del lavoro si sia dotato durante tutti gli anni 30 in una maniera precisa e capillare di tutta una serie di norme e di legge che fanno sì che si possano chiedere tutta una serie di informazioni ben specifiche, tecniche alle singole aziende. I pochi dati che si trovano sono riferiti a due colossi e ci possiamo immaginare quanto sia difficile sfondare quel tipo di complicità che esiste fra determinate strutture aziendali e i vertici del potere fascista. Vi parlo dell'ILVA e della FALC, di conseguenza strutture che hanno sufficiente capacità di difesa dalle ingerenze di un ispettore, in particolar modo ogni volta che si parla delle relazioni della FALC si parla del senatore FALC che provvederà personalmente a esporre le proprie rimostranze in sede ministeriale. Di conseguenza in questo senso noi troviamo forse lo sconforto maggiore, certo che siamo nel 42, siamo in un momento particolare e gli ispettori si sono nel frattempo a cavallo fra anni 30 e 40 dotati di una serie di rilevazioni tecniche che sono state fatte in una maniera particolarmente capillare. Esiste un fondo d'archivio che per chi si occupa di storia dell'industria secondo me potrebbe essere molto interessante e che sono circa 90 buste e che ricordano tutti i tentativi, è praticamente la questione degli osservatori industriali, cioè in periodo di guerra il Ministero della Guerra manda funzionari per le principali aziende considerate di rilevanza nazionale a fini bellici, vengono fatte tutta una serie di inchieste sulle caratteristiche produttive, le caratteristiche di lavoro in termini igienico-sanitari e soprattutto le possibilità di sviluppo ulteriore in base alle necessità del Ministero della Guerra. Si tratta di relazioni piuttosto tecniche dove i punti, immaginatevi ci sono dei moduli prestampati nei quali il funzionario e il singolo ispettore va a fare una serie di considerazioni. Quello che si mette in evidenza sono le caratteristiche della produzione di guerra e di quella normale, di quella fuori dai momenti bellici, le caratteristiche legate al personale, dirigenti, impiegati, operai, la produzione possibile in tempo di guerra con gli attuali impianti, le caratteristiche del fabbisogno energetico e si conclude alla fine con delle annotazioni che riferiscono soprattutto sull'elenco dei macchinari necessari. Questo tipo di lavoro può essere ulteriormente interessante, vi ricordo una novantina di buste sono state inventariate da poco. La cosa è particolarmente interessante per coloro che si volessero occupare del periodo dello sfruttamento da parte dei tedeschi, di conseguenza nel periodo 43-45, soprattutto per le aree del triangolo industriale, vedere come la requisizione di materiali viene capillarmente documentata all'interno di questo tipo di rilevazioni, quindi può essere particolarmente interessante vedere la corrispondenza che c'è fra l'atteggiamento piuttosto chiuto dei vertici tedeschi sulle aziende italiane e poi la reale e effettiva capacità di prendere queste strutture industriali e dislocarle da altre parti oppure semplicemente usufruirne. Tolta la questione così estremamente tecnica di questo tipo di buste di materiali che danno però molto poco sull'aspetto della voce dei funzionali e delle persone che ci lavorano, credo che sia interessante andare a vedere quello che è la ricaduta invece sulle opinioni di una serie di tecnici, di una serie di ispettori, di funzionari di quello che è il passaggio più triste, passatemi questo termine, per un funzionario di carriera nel momento in cui c'è il passaggio di ministero fra Bottai e Lantini. È il momento in cui si decide che i vertici dell'ispettorato corporativo non devono più essere di carriera, ma un segretario generale deve essere nominato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Di conseguenza è il momento preciso in cui si toglie dalla tradizione della carriera ministeriale, si tolgono determinate prerogative e ci si mettono personaggi che vengono dal mondo della politica. Questa cosa ha esattamente questa considerazione, per stemperare questa eccessiva ingerenza del mondo della politica, dobbiamo fare in modo che almeno un vice segretario sia di tradizione, sia di carriera. Queste che sono cose probabilmente anche molto interne ad una logica conservativa ministeriale, hanno una ricaduta molto interessante su tutta una serie di pubblicazioni, se volete anche abbastanza ingenue, che sono state ingenue, lo dico per lo spirito, il tono, l'atteggiamento che hanno, e si trovano una serie di articoli, di saggio, di articoli di giornale che si trovano in quei settori più legati all'operaismo fascista. È interessante notare che una di queste rivistine era proprio qui di Pisa, proprio per il fatto che stiamo parlando di un luogo dove gli studi corporativi avevano un'importanza così centrale, almeno per quanto venivano propagandati per la presenza di Bottai qui come direttore della scuola. Un gruppo di collegiali dell'allora collegio Mussolini fondano a fine degli anni 30 una rivistina che si chiama Civiltà del lavoro e all'interno di questa rivista che è particolarmente interessante per i linguaggi utilizzati, c'è in maniera specifica la difesa, sembra come che l'ingerenza ideologica del partito attraverso le strutture governative possa in qualche forma essere limitata dalla tradizione della carriera. Questa cosa viene detta in un articolo interessante nel 41 da uno dei personaggi che all'epoca stava lì al collegio e che era Sauro Zaccagnini che scrive un articolo in proposito, ma le stesse cose le ritrovate poco tempo dopo in pieno 42 sul giornale del partito della Federazione Romana che è Roma Fascista, dove ci sono in conseguenza degli scandali per la costruzione delle 42 a Roma, ci sono tutta una serie di questioni un articolo sarà anche abbastanza noto perché ne parla nella sua biografia spesso Eugenio Scalfari, questa famosa questione del che cosa fanno gli ispettori del lavoro, perché non vi rendete conto di quello che sta succedendo? Al di là del singolo articolo è interessante notare come ancora una volta si gioca questa ambivalenza tradizionale fra l'istituzione corporativa, questo senso di giustizia fascista che sovrintende alla struttura di potere fascista che disciplina il lavoro, i funzionari che ne vedono una bontà proprio in termini di progresso, non soltanto economico ma ovviamente anche sociale e dall'altra parte un atteggiamento abbastanza controcorrente da parte di tutti coloro che effettivamente invece continuano a vedere la possibilità di lavorare con la tradizionale difesa di privilegi soprattutto in un ambito industriale. Non c'è praticamente traccia e questo è il grosso problema di tutto quello che l'ispettorato del lavoro va a fare in ambito agricolo, noi troviamo soltanto, visto che l'ispettorato del lavoro in questa fase prende a sé tutta la rilevazione anche delle aziende e di tutto quel vasto retroterra agricolo di questo Paese, noi non abbiamo un rigo che sia uno su queste cose, abbiamo soltanto pochissimi riferimenti di quelle che sono alcune camere che sovrintendono e che provano a organizzare su impulso di bottai una sorta di consorsi per limitate questioni produttive in alcune zone del mezzogiorno e quindi su quello abbiamo qualche sparuto dato, ma per il resto c'è molto poco. Allora la conclusione del mio discorso dove sta? Portare avanti una ricerca di questo tipo secondo me necessita di cominciare ad andare a vedere non più al centro ma in periferia e quindi negli archivi di Stato di varie città importanti come possono essere Genova, Milano alcune città del sud oppure per esempio Terni sarebbe un posto interessante andare a vedere se si trovano in questo senso relazioni di pugno degli ispettori. Perché dico questo per esempio relativamente a un luogo come Terni? Perché bisognerebbe cercare di togliere dalle mani di coloro che fanno essenzialmente un lavoro di carattere di speculazione politica dietro a questi ragionamenti, la questione della continuità dei funzionari fra ispettorato del lavoro e poi i sindacati del dopoguerra e soprattutto la CGL. C'è un articolo che è rimasto famoso, un solito articolo di quelli estremamente raffinati del giornale del 2013 in cui si ricordava il titolo, era abbastanza interessante, non ricordo le parole esatte ma era interessante il fatto che si parlava dell'impronunciabile continuità, dell'impronunciabile e imbarazzante continuità fra i funzionari del sindacato fascista, lì si sbaglia perché si parla di ispettorato del lavoro e non di sindacati e la CGL ternana del dopoguerra. Al di là di questi ragionamenti utilizzati in termini strettamente di delegittimazione dell'antifascismo etc., la cosa forse che è più interessante rimane quella sollevata da quel meraviglioso saggio di Pavone sulla continuità dello Stato, dove quello che si ricorda in maniera chiara e chiara, appunto me lo può confermare qui accanto a me, è che la questione non è soltanto di continuità di istituti, la questione è di andare a vedere la continuità o meno di un eventuale portatore di mentalità, di come un funzionario ad un singolo personaggio che sta dietro ad un meccanismo ispettivo può farsi fra fascismo e post fascismo portatore di mentalità che continuino un determinato indirizzo. In questo senso anche la valutazione, al di là degli steccati ideologici, della difesa dell'operaismo fra fascismo e post fascismo pone una serie di interrogativi secondo me abbastanza interessanti proprio per capire non soltanto se cambia l'accento che viene messo sulla dignità del lavoro di fabbrica o del lavoro in un ambito agricolo, ma pone in una maniera ancora più spiccata la questione tradizionale e largamente appannaggio della riflessione marxista della questione ovviamente della dignità, della differenza di dignità fra il lavoro salariato e il lavoro intellettuale, cosa che viene largamente esposta in fase corporativa da tutta una serie di personaggi e che non trova praticamente continuità in quelle relazioni sindacali dell'immediato dopoguerra che tendono invece a dare accento su un discorso ben più allargato sulla dignità in generale del lavoro. Io preferirei fermarmi qui e vi volevo semplicemente citare un piccolo passaggio con il quale, proprio per ricordarvi brevemente con quale stato d'animo un funzionario torna dopo un'ispezione alla FALC. Scusate che trovo il punto. È impressione del collegio, il collegio che quindi va a svolgere, cioè il collegio che sovrintende a Milano, il collegio di Milano è quello che sovrintende all'invio di alcuni ispettori, che sono tre in questo caso, che vanno a guardare i conti della FALC appunto e chiedono conto di una serie di aumenti dei prezzi. Il signor FALC, anzi il senatore FALC in persona, stoppa tutto chiedendo di poter informare prima la Confindustria e la Federazione dei Metallurgici e di potersi avvalere direttamente di un colloquio con le eccellenze dei ministri delle corporazioni e delle finanze. Questo è quello che dice la relazione sull'atteggiamento di FALC. La relazione conclude, è impressione del collegio che le argomentazioni adotte dalla società e tendenti a sospendere gli accertamenti in corso non siano in sostanza che un espediente per uscire dignitosamente dalla delicata situazione in cui i dirigenti sono venuti a trovarsi, i quali peraltro non è da escludere, si ripromettono di riuscire attraverso l'azione delle organizzazioni sindacali e di colloqui con le eccellenze e i ministri competenti ad ottenere una modifica dell'indirizzo delle indagini. La relazione del 21 aprile 42. Grazie. Grazie. Prendo la palla da Simone per rimanere in Italia, ma nell'immediato secondo dopoguerra, perché è di questo periodo che la mia relazione si occuperà. Se le caratteristiche dello Stato sociale italiano post 1945 sono state chiarite nelle sue coordinate fondamentali, soprattutto attraverso studi di carattere politologico e sociologico, di sociologia del lavoro, più che di veri e propri apporti storici che sono numericamente ancora piuttosto esigui, manca a mio avviso ancora un esame di quelle che sono state le valutazioni, le consapevolezze o le mancate consapevolezze che i protagonisti all'epoca dell'edificio in costruzione del nostro welfare hanno dato sulla sicurezza sociale, perché tornando appunto anche a problemi terminologici già avanzati questa mattina, sicurezza sociale e non welfare state è la formula in realtà che viene utilizzata nei documenti di questi anni, dove la categoria welfare state non compare mai, non c'è mai questa assunzione lessicale che arriva dall'esterno, ma si parla di sicurezza sociale. Il mio intervento quindi vorrebbe, in maniera molto veloce e sintetica, fare il punto su queste cose. È esistito un vero e proprio dibattito sulla sicurezza sociale nell'Italia del secondo dopoguerra? Quanto è stato presente il confronto con le esperienze estere? Chi sono stati i protagonisti di questo dibattito? Quali i tempi anche e le evoluzioni dei contenuti del dibattito? Prenderò in esame il periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale alle soglie dei governi di centrosinistra, focalizzandomi in particolare però sugli anni 50 e condividendo in questo senso l'interpretazione, la lettura che uno dei più recenti studi sul welfare state italiano, quello di Ferrera, Gliessaule e Fargione, è stata data, ovvero che gli anni 50 nel bene o nel male, e nel male direi, nel bene e nel male, costituiscano comunque gli anni fondativi del nostro sistema di sicurezza sociale. Parole, parole, parole. Perché? Perché il tema della riforma della sicurezza sociale, della previdenza sociale, è sicuramente, andando un po' a mettere le mani dentro la farina, insomma, dentro la documentazione e i dibattiti di quegli anni, uno dei temi su cui si sono spesi fiumi, letteralmente, di parole. Attraverso una serie di iniziative, a livello spesso alto, cioè istituzionale, sono state ben 14 le commissioni in sede governativa, istituite su questo tema, tra il 44 e il 62, 5 gli interventi del CNEL, il più famoso dei quali è l'ultimo, quello del 1963, osservazioni proposte sulla riforma della previdenza sociale, 3 le inchieste parlamentari che riguardavano comunque temi affini, cioè la condizione dei lavoratori, la commissione sulla disoccupazione, sulla miseria, che comunque, ovviamente, riguardano in maniera complementare i nostri temi, decine i convegni di studio a livello nazionale, ne ho contati tra il 45 e il 54, per 128, includendovi anche quelli di medicina sociale, che comunque riguardano sempre questi temi, non vanno poi naturalmente dimenticati i momenti che ho definito costituenti, quindi la commissione per lo studio dei problemi del lavoro, la cosiddetta commissione pesenti in seno al Ministero per la Costituzione, e le discussioni relative all'articolo che nella nostra Costituzione, più da vicino, riguarda il tema della previdenza e dell'assistenza, cioè l'articolo 38. Assolutamente esondante poi all'analisi della produzione normativa, intendendosi per produzione normativa, non solo le leggi poi effettivamente approvate, ma anche tutti i progetti poi non, effettivamente, il cui iter si perde poi nei lavori parlamentari. sono nelle prime quattro legislature ben 5.193 le voci di progetti di legge che hanno come tema assistenza o previdenza. E poi naturalmente non è possibile eludere, anzi forse è un po' il cuore della documentazione, o comunque una parte assolutamente fondamentale, tutta l'ampia produzione tecnico-giuridica su questi temi, spesso confinata all'interno delle riviste degli enti previdenziali, che sono delle vere e proprie miniere, per chi voglia assaggiare questi argomenti, benché estremamente anche noiosi, lo confesso, però effettivamente sono ricchissime di dati, di spunti e di notizie. Quindi, un fiume di parole, che tuttavia, come notava proprio il rapporto del CNEL del 1963, ed è questo un primo elemento che mi piace portare alla vostra attenzione, tutta questa vasta letteratura che dal 1944-1945 si era prodotta e che si era avvalsa, cito dal rapporto, largamente degli studi compiuti in campo internazionale dall'International Social Security Association e dall'International Labor Organization, era però rimasta quasi esclusivamente competenza dei tecnici e degli esperti del ramo. Continuava il rapporto del CNEL, scarsa soprattutto è risultata la partecipazione degli economisti che invece nella letteratura anglosassone hanno fornito importanti contributi. Quindi c'era già un elemento che appunto mi piace sottolineare, il fatto che tutto questo dibattito è un dibattito che ha dei confini molto limitati, molto ristretti, di natura estremamente tecnica, ma che non riesce a travalicare questi confini. e quindi genera anche a livello di pubblico-opinione, usando termini molto grossolani, categorie ovviamente da prendere con le pinze, però uno scarso scambio. Dopo questa lunghissima premessa, cerco di entrare un pochino più nello specifico, con un giudizio sulla situazione della nostra sicurezza sociale espresso nel 1959, espresso da un personaggio noto a pochissimi oggi, che è Mario Alberto Coppini, ovviamente soltanto io e Chiara abbiamo questa passione un po' perversa per Mario Alberto Coppini, di cui vi dirò fra poco alcune note biografiche, che Coppini scrive appunto nel 59 sulla rivista dell'Inail, appunto una di queste riviste degli enti previdenziali che si rivelano estremamente proficue per le nostre ricerche. Il titolo dell'intervento di Coppini è Che cosa ci separa dalla sicurezza sociale? Siamo appunto nella primavera del 59. Due parole appunto su Mario Alberto Coppini, che nel 1959, quando scrive, è il presidente dell'INAM, quindi non è certamente personaggio di poco rilievo a livello istituzionale e politico, anche per la carica che ricopre, ma soprattutto ha alle spalle una pluriennale esperienza di attuario, quindi di esperto di tecniche attuariali. Dal 1941 Mario Alberto Coppini insegna alla sapienza tecnica attuariale delle assicurazioni sociali. Dal 44 è una delle voci più vicine alla democrazia cristiana, in particolare agli ambienti fanfaniani impegnati nei tentativi di riforma della previdenza e dell'assistenza. Dal 49, perché la sua produzione è veramente sterminata, tra l'altro muore all'inizio degli anni 2000, è un membro del comitato degli esperti della sicurezza sociale dell'ILO e della Social Security Association, quindi ha anche un profilo ampiamente internazionale. Quindi è persona, diremo così, informata dei fatti, per essere oltre che un accademico, un tecnico e anche un tecnocrate, quindi racchiude in sé tre caratteristiche abbastanza importanti, direi. Ed esprime un giudizio netto e decisamente impietoso sulla situazione italiana, essendo, ripeto, presidente dell'INAM a queste date. E dice, mi si è consentito di esordire con una constatazione spiacevole. In Italia, nei 15 anni di vita della nostra giovane democrazia, si sono fatti progressi notevoli nel campo previdenziale, sia estendendo la tutela, sia potenziando l'efficienza delle prestazioni, progressi che ci avvicinano alla spesa massima ragionevolmente sostenibile, ma non si è realizzata la sicurezza sociale, con un danno, a mio giudizio, non lieve per i fini politici e psicologici che in uno Stato moderno si intendono perseguire attraverso una legislazione ispirata ai suddetti principi. A una valutazione netta, quindi, della situazione italiana sul venire degli anni 50, Coppini unisce anche una sua diagnosi circa le ragioni di questo giudizio. Oltre ai conflitti di interesse di natura politica che, dice, rendono sempre difficile ogni decisione importante, aggiunge Coppini, si sono aggiunte la confusione di idee, l'ignoranza dei fatti e dei dati, il disorientamento dell'opinione pubblica. Tutto ciò ha paralizzato le iniziative riformatrici, avvallandosi in questo momento soltanto soluzioni irrazionali e di ripiego. Quindi è a tutto tondo un giudizio tranciante negativamente e vorrei sottolineare che appunto lui parla di confusione di idee e ignoranza dei fatti che porta poi anche a un disorientamento dell'opinione pubblica, un po' riallacciandoci anche a quello che ho brevemente citato prima di quel breve rapporto e quel passaggio del CNEL del 63. Nella valutazione del Presidente dell'INAM l'obiettivo quindi della sicurezza sociale in Italia era a quegli anni ancora lontano e ciò era soprattutto evidente per quello che riguardava l'assistenza sanitaria. I dati che lui dà in questo stesso articolo parlano infatti di 14 milioni di italiani che nel 59, sono circa il 30% della popolazione, erano privi ancora di qualsiasi forma di assistenza generica ospedaliera, 16 milioni e mezzo gli italiani privi dell'assicurazione contro la tubercolosi, circa 2 milioni le persone con età pari o superiore ai 65 anni che non avevano accesso a alcuna forma di pensione diretta o di reversibilità. Tutti i dati confermati peraltro dai rapporti dell'ILO che dagli anni immediatamente post-bellici in avanti pubblica periodicamente un volume che si chiama The Cost of Social Security in cui a livello comparativo riporta tutti i dati relativi alla spesa della sicurezza sociale in tutto il mondo e analizzando ed estrapolando anche quelle cifre, quei dati, i giudizi di Coppini ne escono praticamente confermati. Ma come si è arrivati quindi a questo giudizio, a questa situazione alla fine degli anni 50? Quindi riavvolgiamo brevemente il nastro ripartendo dall'immediato secondo dopoguerra e dicendo che a guerra ancora non conclusa già nel 44 le prime evidenze documentarie si possono ampiamente trovare per quelle date la consapevolezza che l'edificio dello stato sociale fascista fosse totalmente inadeguata, necessitasse di radicali trasformazioni e ricostruzioni era diffusa, largamente diffusa e trasversalmente condivisa tra tutte le forze politiche che intervengono nel dibattito. Quindi la consapevolezza che occorresse una riforma radicale si può trarre da qualsiasi lettura di articoli o documenti di quel periodo. Già nel marzo del 44 in Consiglio dei Ministri, uno dei primi Consigli dei Ministri, Corbino, che allora era alla guida del di Castero dell'Industria, Commercio e Lavoro, parlava della necessità di una riforma radicale che fornisse prestazioni, cito, a tutti i cittadini, siamo nel 44, da realizzarsi, cito di nuovo, con mezzi prevalenti attraverso il sistema normale delle imposte. Riecheggiavano in queste poche righe, insomma, ecchi beverigiani abbastanza evidenti e una volontà che sembrava essere di radicale trasformazione. La stessa Commissione Pesenti sollecitava, cito, l'urgenza e le necessità di una profonda riforma, riconoscendo che proprio perché l'Italia è un paese povero una riforma radicale si impone come indispensabile e utile. Quindi proprio le condizioni drammatiche del paese giusto dalla guerra costituivano, secondo anche il noto motto beverigiano che ogni momento di rivoluzione è il più propizio per affrontare riforme radicali, potevano costituire il terreno migliore per una rifondazione completa del nostro sistema. Tuttavia, ragionando sulle possibili linee di indirizzo da seguire e constatando che i primissimi provvedimenti avevano forse inevitabilmente un carattere emergenziale e quindi non mostrassero neanche in nuce i segni di radicali cambiamenti di rotta, attuari ed esperti di materia previdenziale sentenziavano già alla fine del 1946 è inutile cito da un articolo sempre comparso sulla rivista dell'Inps a firma di tre attuari tutti vicini alla democrazia cristiana alle ACLI quindi diciamo non personaggi dal profilo rivoluzionario insomma o chiaramente di sinistra dicevo è inutile dicevano questi attuari inutile cercare di rammendare e mettere toppe il rammendo non tiene e la toppa è peggiore del male che è la citazione appunto che ho tratto per dare il titolo all'intervento quindi già alla fine del 1946 gli attuari gli esperti di materia previdenziale cominciavano a temere o comunque a verificare che non c'era in previsione nessuna riforma radicale anche da parte di esponenti del mondo socialista su critica sociale nel 1947 si riconosceva che stava mancando il coraggio di liberare il nostro Stato sociale da tutti gli orpelli da tutte le incrostazioni che gli derivavano dall'epoca fascista e quindi con toni assolutamente pessimistici sempre sulla rivista dell'Inps nel 1951 si leggeva un altro giudizio piuttosto impietoso su quello che era successo nel primo quinquennio post bellico in questo articolo aspetti della leggezione previdenziale nel dopoguerra si leggeva sei anni di legislazione intensa rappresentano adattamenti concepiti come rimedi di carattere transitorio ma che avendo inciso in realtà profondamente sulla struttura finanziaria funzionale di alcune forme previdenziali ne hanno soprattutto con il progetto del tempo aggravati i difetti iniziali rendendo più arduo il compito di coloro che dovranno riassettare il pesante e complesso meccanismo esistente quindi non solo non si era fatta la riforma radicale ma le decisioni prese avevano finito per aggravare la situazione di fatto questi quindi i primi giudizi piuttosto trancianti sul primo quinquennio post bellico però ancora prima direi di una mancata capacità una volontà politica di procedere sulla strada della riforma radicale quello che emerge leggendo tutta la documentazione di questo quinquennio è anche una mancanza di chiarezza di analisi e di prospettive teoriche cui fare riferimento cui chi doveva mettere mano all'impianto del welfare poteva fare riferimento quindi ci rifacciamo a quelle parole di Coppini sulla confusione anche di idee che caratterizzarono i primissimi anni post bellici infatti sempre sulla riforma sulla rivista dell'Inps scusate nel 46 si sottolineava che si stava un po' navigando a vista da un punto di vista proprio teorico e programmatico cioè che le conoscenze anche tecniche complessive sembravano risentire di una certa confusione infatti si legge ed è appunto Santoro Nervi e Savoini sono sempre i soliti attuari che hanno sentenziato che la topper a peggiore del mare l'articolo è lo stesso bisogna tuttavia rimarcare la mancanza di punti fermi nel dibattito appunto sulla riforma di orientamenti precisi che possano servire di base per la formazione di una teoria premessa indispensabile per una riforma e ciò dipende sia dall'intrinseca difficoltà dell'argomento sia dalla reluttanza da parte degli studiosi ad abbandonare i vecchi schemi concettuali che tanta parte hanno avuto nello sviluppo storico delle singole istituzioni e quindi qua mi riallaccio anche idealmente e non troppo a Simone in questa continuità di non solo di idee ma anche di persone che quelle idee portano avanti tra guerra e dopo guerra nei primi anni post bellici la mancanza appunto di punti fermi di orientamenti precisi emerge anche guardando alle categorie e ai lemmi adottati nel dibattito su questi su questi temi per cui espressioni come previdenza sociale assicurazione sociale protezione sociale sicurezza sociale vengono spesso usati come sinonimi in maniera del tutto intercambiabile anche nei documenti ufficiali anche nei documenti governativi con una scarsa quindi consapevolezza di quali dovessero essere i tratti originali e peculiari della nuova categoria della sicurezza sociale che avrebbero ad esempio imposto un maggiore coordinamento e una maggiore complementarietà tra assistenza e previdenza e non due realtà da gestire separatamente come era avvenuto e come continuerà ad avvenire incideva poi secondo me in questa confusione di idee in questa mancanza di punti fermi un'eredità del fascismo cioè l'assenza di una tradizione di studi e di dibattiti liberi su questi temi di inchieste sociali sappiamo benissimo che il ventennio rappresenta la fine delle inchieste parlamentari di carattere sociale e non solo per cui sempre citando dal rapporto del CNEL del 63 molto intelligentemente c'è scritto nell'immediato dopo guerra si cercò ma in vano il beverage italiano non c'erano beverage in Italia quindi era anche un po' inevitabile che le cose in qualche modo andassero come poi sono andate cioè la mancanza di studi di un dibattito di approfondimenti dettata appunto dall'età fascista porta nel 45-46 a trovarsi in una situazione di completo disorientamento istituzionale ma ancora di più direi ideativo programmatico alle incertezze poi teoriche si univa uno scarso confronto almeno a livello pubblico sempre a livello parlamentare e politico con le esperienze estere se come scrisse Luigi Inaudi nel 47 nelle sue lezioni di politica sociale il piano beverage cito assunse il valore di un mito uno di quei miti che improvvisamente fanno appello ai sentimenti e alle idealità dei popoli fine della decitazione direi che si può affermare con buona sostanza che il mito che questo mito in Italia fu superficialmente accolto e superficialmente propagandato tanto che non è un caso che il rapporto beverage quello che si intende si chiama il rapporto beverage non venne tradotto in italiano ma rimase soltanto il compendio che nel 43 fece circolare lo stesso governo britannico a scopo anche propagandistico come ben sappiamo ma al di là di quel compendio poi pubblicato sulla rivista dell'Inail poche settimane dopo non si procedette a una traduzione in italiano del rapporto mentre è significativo che gli altri due volumi della trilogia bevederigiana trovarono immediato invece traduzione evidentemente perché la necessità della piena occupazione da una parte che è il secondo volume della trilogia e l'azione volontaria quindi la necessità di mantenere spazi di azione individuale privata da parte dei singoli appunto e l'azione volontaria l'ultimo volume bevederigiano risuonavano molto più facevano risuonare le corde insomma delle due culture politiche prevalenti in quel frangente socialisti e comunisti piena occupazione azione volontaria cioè principi della sussiderietà dall'altra parte la cultura cattolica quindi è anche abbastanza evidente che quei due pezzi insomma dell'impianto bevederigiano siano stati tradotti anche per questo mentre significativamente proprio il primo dei tre pilastri non trova non trova la traduzione se nel dibattito poi politico e pubblico dei primi anni del dopoguerra fu onnipresente trasversale invece l'efficace formula l'efficace e facile formula della liberazione dal bisogno che diventò veramente quello sì uno slogan sulla bocca di tutti politici giornalisti fu però molto scarsa invece sostanzialmente assente il confronto vero con le esperienze di quei paesi in cui la sicurezza sociale aveva già trovato accoglimento quindi Nuova Zelanda in gran parte Australia ma anche Stati Uniti e Gran Bretagna e fu ancora una volta soltanto all'interno della più ristretta cornice rappresentata dalle riviste degli enti previdenziali che questo dibattito e questa conoscenza del mondo estero si avverte specialmente numericamente ho fatto una piccola inchiesta sono l'esperienza francese britannica e statunitense quella su cui si concentrano le attenzioni degli attuari dei tre enti previdenziali ma appunto al di là di questo circoscritto mondo il confronto con le esperienze straniere sembra praticamente inesistente e appunto ancora una volta si ritorna a queste parole del CNEL di un dibattito che rimane confinato ai soli esperti e non diventa in qualche modo un linguaggio un'idea condivisa inoltre al di là della confusione di concetti e di idee direi che è fondamentale anche mettere il dito sulla confusione di organismi questo binomio non l'ho inventato io ma lo si può trovare in un panflet di Ezio Vigorelli pubblicato nel 48 per Mondadori l'offensiva contro la miseria in cui Ezio Vigorelli futuro poi ministro voce abbastanza isolata della social democrazia e tra coloro che appunto nell'isolamento quasi completo portano tentano di portare avanti un linguaggio anche che risente chiaramente del linguaggio beverigiano dicevo in questo panflet parlava non soltanto di confusione di concetti ma anche confusione di organismi e quindi si va all'aspetto istituzionale e amministrativo dei temi della sicurezza sociale dell'assistenza e della previdenza e cioè il fatto che la grande sovrapposizione di istituzioni che si occupavano in maniera frammentata e frammentaria di spezzoni della previdenza e spezzoni dell'assistenza generano confusione duplicazione di spese inefficacia burocratizzazione eccessiva fondamentalmente scarsa poi pregnanza da un punto di vista delle prestazioni basti pensare che questo policentrismo nelle competenze istituzionali riguardanti assistenza e previdenza portava alla dispersione dei compiti tra una decina di ministeri e commissariati tra fine anni 40 e tutti gli anni 50 c'era il ministero dell'interno ovviamente che gestiva i finanziamenti rivolti a una miriade di istituti di assistenza e beneficenza nonché a tutti gli ECA e all'ONMI che non era stato soppresso lo stesso di Castello dell'interno aveva poi ereditato gran parte delle funzioni del disciolto ministero dell'assistenza post bellica nel 47 e quindi riprendeva già alla fine del 47 saldamente nelle sue mani il controllo che tradizionalmente aveva sempre esercitato dall'età liberale in avanti di un settore strategicamente fondamentale come quello dell'assistenza che tornava quindi saldamente nelle mani degli interni ma nelle questioni assistenziali e previdenziali intervenivano ministero dell'agricoltura della difesa dell'istruzione della giustizia dell'Africa italiana l'alto commissariato per l'alimentazione quello per l'igiene e la sanità la presidenza del consiglio dei ministri e naturalmente il risorto ministero del lavoro e della previdenza sociale fu un compagno di partito di vigorelli che nel 48 confesso che non l'avevo mai sentito nominare prima l'ho trovato sfogliando gli atti parlamentari si chiama Umberto Zanfagnini il primo a chiedere ufficialmente in Parlamento la nascita di un ministero della sicurezza sociale cito sull'esempio dei paesi più civili e progrediti d'Europa vale a dire un ministero che raccolga concentri e unifichi tutti i servizi assistenziali igienici sanitari e previdenziali la proposta oltre che in Parlamento fu condotta a livello governativo anche personalmente da vigorelli con un memorandum che lui fece circolare a tutti i ministeri e a tutti i ministri che si intitolava era un lungo memorandum note per un piano di sicurezza sociale siamo nell'ottobre del 48 in cui il deputato mettendo appunto sempre in evidenza questa duplicazione di servizi spese e competenze continuava tornava a chiedere le istituzioni appunto di un dicastero che centralizzasse sull'esempio di Francia Svezia Nuova Zelanda e Gran Bretagna e vigorelli in quel memorandum citava testualmente anche le raccomandazioni che erano arrivate dagli Stati Uniti dal governo statunitense nel momento della conclusione degli accordi di supporto economico legati all'Aid from the United States of America program che fu siglato nell'estate del 47 nell'ambito poi più generale degli accordi del piano Marshall vigorelli appunto questo è un pezzo del documento che vigorelli invia al governo in cui però cita le raccomandazioni statunitense quindi queste non sono le parole di vigorelli ma sono le parole che vigorelli riprende dagli americani i quali scrivevano la legge per la cooperazione economica non contiene disposizioni specifiche riguardanti il finanziamento di attività assistenziali tuttavia la ripresa di una nazione ha per presupposto la ripresa dei suoi cittadini non meno che la ripresa dell'industria e dell'agricoltura un programma statale coordinato rappresenterebbe un passo in avanti riguardo alle spesso ripetute dichiarazioni del governo italiano appunto sulle riforme sociali quindi questa era una sollecitazione statunitense che arrivava nel momento della conclusione degli accordi economici affinché il governo appunto procedesse anche verso una riforma del settore assistenziale e previdenziale tutte negative le reazioni che dal governo vennero al memorandum di vigorelli ne cito soltanto una tra le tante era l'alto commissario per l'igiene e la sanità un medico tra l'altro un democristiano che respingendo la proposta di vigorelli tesseva contemporaneamente le lodi del ministero dell'interno ritenendolo cito fermamente l'organo più idoneo a benassolvere le funzioni assistenziali anche sulla base di valori storici come la tradizione e la continuità questa era la risposta di Mario Cortellessa che era allora appunto l'alto commissario per l'igiene e la sanità motivi di carattere storico mi inducono a permettermi tale affermazione cioè quindi rigettare la proposta di un ministero della sicurezza sociale già che il ministero dell'interno dall'unificazione ad oggi ha saputo provvedere con illuminata saggezza e conservare a ben dirigere il patrimonio considerevolissimo della pubblica beneficenza si aggiungono a questi altri motivi che derivano dall'odità dal prestigio di cui gode lo stesso ministero il quale a mezzo dei prefetti bla 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 vorrei vorrei sottolineare l'uso del termine pubblica beneficenza quindi siamo ancora all'uso di categorie prettamente liberali ottocentesche che chiaramente nulla hanno a che fare in termini di principio di idee con quelle della sicurezza sociale ma nel 48 vengono ancora invocate come i principi di riferimento sui dibattiti però e sulle incertezze teoriche e politiche che caratterizzano questi anni credo abbiano peraltro anche inciso e pesato quelle dicotomie nelle due categorie cittadino e o lavoratore che hanno contraddistinto attraverso proprio la loro cristallizzazione dell'articolo 38 il contesto dell'Italia immediatamente post 1945 tanto che la categoria lavoratore si può dire assunse in sé quella di cittadino e non il contrario come alcuni studi hanno già evidenziato l'opzione quindi universalistica rivolta quindi a una protezione sociale di tipo beverigiano rivolta a tutti i cittadini quindi indirizzata a costruire un sistema di sicurezza sociale che avesse il cittadino e non il lavoratore al suo centro fu scartato da subito non fu neanche di fatto discusso non entrò neanche quasi nell'agenda della discussione prevalendo una prospettiva e un'ideologia che definisco lavoristica che fu trasversale a tutte le forze politiche che non solo fu patrimonio della tradizione socialista o comunista ma che si trova tranquillamente almeno in alcune frange anche della componente cattolica e democristiana penso a Dossetti penso a Fanfani e quindi fu un collante un filo rosso che non contrappose le culture politiche maggioritarie e quello dell'ideologia lavorista ma in qualche modo invece le le fece avvicinare insomma non fu un elemento di differenziazione ma al contrario di pesavano chiaramente su quest'ideologia lavorista le condizioni concrete economiche sociali del paese la tradizione e l'impostazione occupazionale e categoriale che il sistema di protezione sociale aveva assunto da fine ottocento in avanti nonché appunto come dicevo i contenuti e i caratteri alcune delle culture politiche prevalenti per cui già nelle carte negli atti della commissione presenti si può leggere che il fine della politica sociale era cito garantire a tutti i lavoratori la salute fisica e la sicurezza economica e assicurare loro un tenore di vita minimo compatibile con la dignità della persona giudizi poi ripresi anche dalla commissione d'Aragona che era la commissione per la riforma della previdenza sociale nata nel 47 insieme al ministero del lavoro e della previdenza che scriveva cito la previdenza sociale non deve essere stesa a tutti i cittadini quindi proprio in maniera programmatica si leggeva questo intento insomma questo obiettivo e anche quando Fanfani ministro del lavoro tentò senza riuscirci di dare concretezza alle suggerimenti appunto emersi dalla commissione d'Aragona proponendo un lungo disegno di legge sulla riforma della previdenza che non fu neanche mai portato all'attenzione del governo per i conflitti di siti interni al quarto gabinetto dei gasperi nell'introduzione lunghissima che Fanfani scrisse a questo provvedimento c'era proprio scritto che cito l'ambito della previdenza non deve comprendere come nel piano inglese tutti i cittadini ma solo chi rivesta la qualità di lavoratore firmato Fanfani quindi ripeto era un'idea condivisa e largamente circolante del resto di una diversa articolazione e gradazione dei diritti sociali erano già stata espressione credo i dibattiti in seno alla terza sottocommissione dell'assemblea costituente relativamente a quello che diverrà poi l'articolo 38 della costituzione i dibattiti che appunto tutti se si vanno ad analizzare riflettono la stretta discendenza dei diritti sociali in Italia dalla categoria del lavoro è quella la categoria centrale dal quale poi si fanno derivare tutte le successive riflessioni introducendo come sappiamo nell'articolo 38 una distinzione tra le tutele previdenziali e assistenziali spettante al cittadino lavoratore rispetto a quelle previste al cittadino non lavoratore protagonista delle discussioni ancora una volta fu lo stesso Fanfani è suo la bozza del testo dell'articolo 38 che superando quelle presentate dal compagno di partito Giuseppe Togni in cui erano in realtà molto più evidenti riferimenti di carattere universalistico Togni faceva riferimento alla costituzione dell'URSS del 36 e alla nuova costituzione francese e spingeva in direzione di un articolo che andasse a tutelare il cittadino in quanto tale Fanfani interviene c'è una discussione nella terza sottocommissione emerge poi un articolo che appunto cristallizza la dicotomia previdenza e assistenza tra il lavoratore e il non lavoratore che poi verrà votata insomma nelle sue linee essenziali il testo poi definitivo dell'articolo 38 non è così lontano dalla bozza fanfaniana approvata in terza sottocommissione e il carattere è stato detto confermativo in qualche modo giocato almeno per i primi anni repubblicani dall'articolo 38 poi chiaramente le cose evolvono e la lettura costituzionale dell'articolo 38 non può essere separata da altri articoli della costituzione però in relazione proprio a la cristallizzazione di uno status quo che era quello emerso dal fascismo fondamentalmente giocato dall'articolo 38 si può vedere guardando le reazioni suscitate nei governi centristi quindi le risposte date dal governo centristi ad alcuni provvedimenti di natura previdenziale presentati da esponenti tipicamente del partito comunista o socialista faccio alcuni esempi nel luglio del 52 una proposta presentata tra gli altri da Teresa Noce e Oreste Lizzardi mirava a fornire una più adeguata protezione a tutti quei lavoratori stagionali ed erano centinaia di migliaia che avevano vissuto una condizione di permanente sottoccupazione lavorativa nel corso di tutta la loro vita e quindi in età anziana non avevano i requisiti contributivi per ottenere una pensione si invocava da parte dei proponenti quindi della Noce e di Lizzardi proprio l'articolo 38 della Costituzione e si chiedevano quindi delle deroghe per riuscire a fornire appunto ai lavoratori occasionali una qualche forma di protezione previdenziale il governo si oppone a questo progetto a questo disegno di legge e significativa credo è la motivazione che venne invocata dall'allora ministro del lavoro era Leopoldo Rubinacci per respingere questa proposta Rubinacci scrive dall'esame del provvedimento proposto appare evidente la sua principua finalità di realizzare dell'assistenza la norma non viene però inserirsi armonicamente nell'ordinamento vigente cioè quello costituzionale ma ne forza i principi informatori intesi realizzare la previdenza sociale per il lavoratore introducendo concetti propri di altra corrente cioè quello dell'assistenza sociale al cittadino quindi la motivazione che il ministro del lavoro aduce per respingere una proposta di legge che in qualche modo tenta di forzare i confini della legislazione invocando l'articolo 38 è che quella proposta va contro lo stesso articolo 38 forzando nei principi informatori ed è quindi su questa base che il ministro lo respinge e ho trovato insomma questo uso retorico che però non è soltanto retorico in qualche modo fa riferimento a una sostanza piuttosto significativo reazioni non dissimili anzi fondamentalmente uguali perché questa proposta di legge sui lavoratori stagionali poi ha un iter lunghissimo viene ripresentata moltissime volte e alla fine poi confluirà nella riforma Brodolini praticamente no diventerà scusatemi la legge del 65 sulla pensione sociale però ci vogliono 13 anni perché attraverso maturazioni e step successivi ci serrivi quindi nel 54 praticamente lo stesso provvedimento viene riproposto sempre da Lizzardi questa volta ci sono anche di Vittorio e Vittorio Foa tra i proponenti e il disegno di legge è intitolato assegno vitalizio ai vecchi lavoratori nelle sue linee essenziali riprende esattamente la proposta Noce e Lizzardi di due anni prima e ancora una volta i proponenti invocano il dovere costituzionalmente sancito cito dalla proposta dell'articolo 38 il cui addempimento non può essere ora più rimandato questo dicono i proponenti ancora una volta tutte negative le reazioni che arrivano dai ministeri ai quali la proposta arriva e tutti i ministeri poi scrivono una dettagliata relazione in cui motivano il respingimento della proposta per Scelba ministro degli interni i vecchi lavoratori indigenti avrebbero semplicemente dovuto rivolgersi agli ECA agli enti comunali di assistenza e cito dalla risposta di Scelba si mantiene in questo modo all'intervento il normale carattere di beneficenza generica quindi ancora una volta il riferimento di Scelba è alla beneficenza la categoria quindi che entra in gioco non è certamente ne quella della previdenza neanche l'assistenza tanto meno la sicurezza sociale è addirittura la beneficenza la carità per Silvio Gava ministro del tesoro l'accoglimento della proposta ancora una volta come Rubinacci prima avrebbe radicalmente mutato la natura delle politiche sociali e quindi era da respingere esattamente utilizzerà parole non diverse da quelle di Rubinacci pochi anni prima queste le risposte di Gava la proposta di cui trattasi tende alla trasformazione dell'attuale sistema di previdenza sociale in un sistema di protezione o sicurezza sociale più precisamente mentre l'attuale sistema attua la tutela delle categorie lavoratrici il sistema di sicurezza sociale tende alla protezione del cittadino in maniera completa intervenendo con adeguate prestazioni in tutte le circostanze pertanto l'elemento lavoro posto a base del vigente ordinamento sarebbe sostituito dall'elemento bisogno questo non va bene e quindi respingiamo nuovamente la proposta e anche questo insomma andiamo nel 54 questo cosa testimonia non solo l'uso diciamo politico strumentale ma non vorrei insistere troppo su queste categorie perché comunque fanno riferimento all'ordinamento vigente a un articolo della Costituzione per motivare il loro il loro giudizio però assistiamo al fatto che è avvenuto un passo in avanti la confusione di idee nel 52 54 è ormai svanita anche da parte dei vertici istituzionali perché che cosa sia la sicurezza sociale a questo punto Silvio Gava lo sa e lo dice è un sistema rivolto a tutti i cittadini quindi c'è stato comunque un dissolvimento delle nubi e una consapevolezza di che cosa debba perlomeno essere la sicurezza sociale che è intervenuta e è arrivata anche ai vertici istituzionali il provvedimento viene riproposto ancora una volta nel 58 la storia di questo provvedimento è piuttosto interessante è piuttosto significativa sempre da FOA da Romagnoli da Brodolin e da Berlinguer con la medesima dicitura viene nuovamente respinto questa volta per semplice più tranquille ragioni di bilancio nel 62 sono però 56 deputati dell'ADC questa volta a riprendere il tema e a ripresentare il governo il provvedimento che torna all'attenzione dell'agenda parlamentare ed è significativo il cambiamento nella titolatura del provvedimento che questa volta è divenuto assegno assistenziale per gli anziani la parola lavoratore piano piano comincia anche a scomparire dal titolo del provvedimento e significative le parole di presentazione con cui in cui appunto compaiono le tracce di un percorso di consapevolezza che ormai è avvenuto anche nelle aule parlamentari dicono i 56 proponenti l'orientamento della pubblica opinione si è polarizzata in quest'ultimo periodo verso l'interessante evoluzione del settore previdenziale e segnatamente all'esigenza di una riforma generale che si avvicini il più possibile ad un regime di sicurezza sociale quindi stavolta lo fanno proprio ai proponenti stessi a causa della fine anticipata della legislatura nuovamente il provvedimento decade viene ripresentato ancora una volta da Mario Berlinguer e da Ezio Vigorelli insieme nel 64 e a questo punto si attua anche da un punto di vista semantico il definitivo e decisivo slittamento verso la sicurezza sociale nell'accoglimento del lemma cittadino all'interno del titolo del segno di legge che diventa assegno mensile ai cittadini oltre 65 anni quindi dal 52 al 64 si è compiuto un cammino che testimonia appunto una diffusione di consapevolezze su questi temi che proprio anche da un'analisi linguistica dei provvedimenti legislativi direi che si può percepire ma quando è collocabile e perché questo questo cambiamento riguarda appunto il tema della sicurezza sociale a mio avviso è stato finora soprattutto detto che gli anni 50 costituiscono gli anni di grande contrapposizione ideologico politico partitica e che quindi nella contrapposizione anche elettorale tra DC e PC che si attua quella spinta almeno secondo Ferrera e il soul e Fargion che porta a quel tumultuoso e anche un po' disordinato su seguirsi di provvedimenti dal 57 in avanti fondamentalmente però a mio avviso da un punto di vista anche teorico anche di consapevolezze appunto di idee è soprattutto nella competizione tra i due maggiori sindacati italiani che si attua a questo passaggio non tanto tra i partiti i partiti secondo me poi lo recepiscono ma se ne fanno principalmente promotori CISL e CGL e in particolare devo dire che la CISL la prima è l'organizzazione di Giulio Pastore la prima ad impegnarsi in maniera esplicita e a testimoniare di aver incamerato un patrimonio di matrice direi fondamentalmente beverigiana nel suo linguaggio e nelle sue proposte nel 57 infatti è il convegno di studio sui problemi della sicurezza sociale promosso a Roma dalla CISL il primo convegno in cui la CISL propone appunto un superamento cito dagli atti del principio corporativo e assicurativo dominante nell'attuale sistema di previdenza auspicando un sistema di sicurezza sociale per tutti i cittadini in quanto tali l'anno successivo Giulio Pastore invia anche al presidente del consiglio da Donnezzoli un documento intitolato attuazione di un piano di sicurezza sociale in cui traccia a grandi linee le direttive che dovrebbe avere questo piano e dice che questo piano mira l'instaurazione di un regime di sicurezza sociale che intende garantire a tutti i cittadini una serie di prestazioni fondamentali la sottolineatura è originale nel documento dello stesso Pastore in questa competizione subito a tamburo battente risponde la CGL l'anno successivo con il convegno nazionale sulla sicurezza sociale in cui anche soprattutto negli articoli di FOA e di Lizzardi emerge che anche in seno la CGL si è compiuto un percorso la CGL peraltro già dal 56 aveva iniziato una serie di iniziative a favore dell'istituzione di un sistema sanitario nazionale insomma è la prima a proporlo però nel 59 adotta in qualche modo anche la CGL un lessico più vicino a quello della sicurezza sociale però è significativo che negli atti del 59 ancora individuano come beneficiari delle azioni previdenziali e sociali ogni lavoratore e ogni cittadino mantengono ancora questa e questa congiunzione questa leggera divaricazione tra le due categorie pur essendo anche loro ormai andati verso un'evoluzione interna nella loro consapevolezza per concludere in realtà non ho nessuna conclusione da proporvi se non che nell'analisi insomma nella storia dell'evoluzione dello stato sociale dal 45 in avanti credo si debba tenere conto appunto di una serie di tappe per cui quello che succede nel primo coinquegno secondo me è anche veramente generato da una vera e propria povertà di idee confusione di idee mancanza di riferimenti e concettuali che incidono tanto quanto la mancanza di una volontà politica insomma di rimente e che però gli anni 50 appunto costituiscono sotto tanti punti di vista veramente gli anni decisivi perché la consapevolezza man mano e le idee e i dati cominciano a circolare il linguaggio della sicurezza sociale comincia a penetrare le aule parlamentari quelle istituzionali quelle sindacali e quindi la domanda successiva è perché allora poi negli anni 60 succede quel che è successo ma questa è un'altra storia e la vedremo un'altra volta grazie Chiara che dici facciamo subito Stefano forse conviene dai stephano questo ah certo si 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 allora vediamo Sì, dobbiamo aprire delle slide, però non l'abbiamo provate prima. Sì, è un manuale per aprire la chiavetta. Tanto prendete un attimo di pausa che fa bene, no? E tale è la ricchezza delle suggestioni di oggi che uno avrebbe bisogno di sedimentare un attimo prima di poter interloquire ragionevolmente. Ecco, io vi parlerò delle vicende dei servizi sociali aziendali, l'ho chiamato però welfare aziendale un po' perché noi storici abbiamo poca dimestichezza con l'uso preciso dei termini siamo un po' approssimativi, tendiamo a raccontare delle vicende piuttosto che a categorizzarle e poi perché effettivamente le aziende si sono trovate spesso all'avanguardia rispetto alle prestazioni pubbliche rispetto appunto ai bisogni di sicurezza sociale della popolazione. Naturalmente si trattava di provvedimenti relativi ai propri dipendenti e non né ai lavoratori in generale né tantomeno ai cittadini. Ecco, vi parlerò di questa evoluzione da fino a 800 fino al periodo diciamo post-fordista come ancora in maniera un po' imprecisa tendiamo a definire gli ultimi 20-30 anni di predominio di posizioni neoliberiste. Ecco, intanto come origina un sistema di servizi sociali nell'Italia della prima industrializzazione? Io tendo a sostenere che, come dire, in parte almeno l'iniziativa degli imprenditori di creare i servizi sociali a favore dei dipendenti dipende anche da un'esigenza di legittimazione che la nuova classe industriale, di industriali soprattutto, ha nei confronti del sistema sociopolitico precedente, vale a dire devono giustificare il loro ruolo, il loro ambire a diventare nuova classe dirigente e, come dire, a fronte di critiche che ricevano da forze sociali più legate ai sistemi d'anchan regime nella misura in cui l'industrialismo crea i problemi che conosciamo, crea i movimenti migratori, crea il fenomeno dell'urbanesimo con tutti i problemi connessi all'accumulo di popolazione nelle città, crea il fenomeno della disoccupazione, stamani si ricordava il tema della scoperta della disoccupazione involontaria, come immagino sappiamo a fine 800, primi 900, si aggiunge l'aggettivo involontaria a disoccupazione perché si dava per scontato che in precedenza si dava per scontato che la disoccupazione, se c'era, era volontaria, dipendeva da difetti del disoccupato. E poi il fenomeno degli scioperi, come sappiamo, comincia a preoccupare le classi dirigenti in Italia negli anni 70, dell'800, comincia la rilevazione sistematica degli scioperi. strategie di legittimazione si muovono su tre piani, una strategia paternalista, una strategia politica e una strategia tecnocratica. Queste strategie si sovrappongono negli stessi soggetti, hanno però anche delle specifiche settoriali e anche temporali, nel senso che la strategia paternalista prevale nel settore tessile e precede, si può dire, le altre strategie, quella politica prevale nell'industria pesante nella grande meccanica, cioè nell'industria più legata al sistema degli armamenti e dunque alle politiche internazionali, le politiche di potenza nazionale. strategia tecnocratica invece prevale nei settori tecnologicamente più dinamici, quelli collocati alla frontiera avanzata delle tecnologie ed è grossomodo individuabile tra fine ottocento ed età giolittiana. La strategia paternalista cosa dice? Noi imprenditori non creiamo problemi sociali perché ci occupiamo dei nostri dipendenti e li facciamo star bene, dunque non siamo noi che creiamo problemi sociali perché creiamo il villaggio operai, creiamo le case, aiutiamo i nostri dipendenti, siamo dei buoni padri che si occupano dei propri figli, l'impresa è una grande famiglia. Naturalmente il settore tessile si colloca prevalentemente allo sbocco delle vallate alpine e appenniniche in zone in cui la mano d'opera locale non è sufficiente, si creano le case, si creano i villaggi, si creano i convitti, spesso gestiti da suore per una mano d'opera prevalentemente femminile. La strategia politica è quella degli imprenditori nazionalisti che rivendicano nei confronti dello Stato un appoggio perché la loro attività produttiva è fondamentale per la potenza della nazione e propongono anche una sorta di patto fra produttori, sostenendo la necessità che lo Stato dreni risorse a favore della produzione industriale e queste risorse possono andare a favore anche dei dipendenti perché in qualche modo bisogna premiare il contributo che l'operaio industriale, i propri dipendenti danno alla produzione che garantisce la forza della nazione. Quindi è una posizione tipica degli ambienti imprenditoriali che si avvicinano al nazionalismo. La strategia tecnocratica è quella tipica di imprenditori tra virgolette giolittiani, potremmo dire che giustificano semplicemente il loro ruolo sostenendo che sono loro i fautori del progresso, i realizzatori dell'innovazione che crea una condizione di progressivo benessere che si allarga poco per volta a tutta quanta la società. L'origine dei servizi sociali aziendali sta soprattutto nella strategia paternalista, in quella politica. La strategia tecnocratica, le imprese che potremmo chiamare tecnocratiche sono un po' in ritardo nella produzione di servizi sociali aziendali, ma d'altra parte sono anche le imprese che occupano la manodopera più qualificata, che guadagna più del doppio della manodopera generica e che in qualche modo sa cavarsela, anche perché è una manodopera che guadagna sufficienza da poter risparmiare, da poter pagare contributi alle casse di muto soccorso e quindi ha i propri strumenti per affrontare i momenti di difficoltà. Tende ad affermarsi però da questo miscuglio di strategie, un modello che potrei chiamare, propongo di chiamare neo-aristocratico. Con i servizi sociali aziendali si realizza una sorta di scambio fra protezione e deferenza. Io proteggo il mio dipendente in cambio ovviamente di un consenso alle strategie imprenditoriali, a una deferenza nei confronti del buon padre di famiglia. Questo modello, quest'idea dell'impresa come famiglia più grande è tipica di tutto, il mondo imprenditoriale senza distinzione fra le tre strategie che prima ho delineato. C'è anche un'assunzione di responsabilità nei confronti delle comunità territoriali di riferimento, cioè delle comunità territoriali dove l'impresa si insedia, che anche questo ha a che fare con modelli pre-industriali, pre-liberali, specialmente le imprese che hanno delle posizioni monopsonistiche sul mercato del lavoro locale, cioè sono il grosso dell'offerta di lavoro, della domanda di lavoro scusate, nell'area. Ci sono delle vicende piuttosto interessanti. Faccio tre esempi, abbiate pazienza, io sto a Torino, quindi faccio degli esempi prevalentemente piemontesi, ma questi si potrebbero moltiplicare n volte per altre realtà. Faccio gli esempi che conosco meglio. Gli Agnelli e l'impresa RIV che è di proprietà della famiglia, fin quando non viene ceduta alla SKF, è della famiglia Agnelli, non è della Fiat. A Villarperosa che è il villaggio originario della famiglia, l'Olivetti Evrea, gli disegna Trivero. In tutti e tre questi casi, ma presumibilmente in molti altri, l'imprenditore fa il sindaco e l'ufficio tecnico dell'impresa supporta la scarsa capacità, la scarsa efficienza degli uffici tecnici comunali, quindi offrono una serie di servizi all'intera comunità territoriale. È particolarmente interessante una vicenda buffa che avviene a Villarperosa quando all'indomani della liberazione viene nominato sindaco un comandante partigiano locale comunista, il quale immediatamente dice no, è meglio che il sindaco lo faccia Gianni Agnelli, il nipote del fondatore, e il giorno dopo Gianni Agnelli diventa sindaco di Villarperosa. Mado avanti velocemente, anche perché è tardi, siamo stanchi, i servizi sociali aziendali tra le due guerre. Ecco qui interviene effettivamente l'operazione di creazione di servizi sociali aziendali da parte delle aziende, tra virgolette, tecnocratiche. Si tratta di quella che la Vittoria De Grazia, nei suoi studi sul dopolavoro in Italia, ha chiamato la manutenzione sociale dei dipendenti. I servizi sociali servono a salvaguardare l'efficienza produttiva, la produttività dei lavori perché bisogna difendere appunto nel benessere psicofisico e ottenere una capacità di resistere a ritmi di lavoro che sono imposti dai nuovi sistemi di macchine e anche dai nuovi modelli organizzativi di stampo taylorista. Ricordiamoci che alla Ford nel 1913, quando inizia a essere impiantata la catena di montaggio ad avanzamento automatico, per un stock di posti di lavoro di 13.000 persone, passano 53.000 dipendenti in un anno, nonostante che Ford offre la giornata di 5 dollari che era il doppio della paga media corrente delle imprese metallurgiche dell'area di Detroit e quindi in parte era gente che veniva scartata perché non abbastanza produttiva, in parte erano lavoratori che se ne andavano perché dicevano vabbè vado a guadagnare la metà ma io da questo inferno, da tempi moderni voglio uscire. Ecco, c'è però anche una componente tra le due guerre peculiare al regime fascista in Italia, cioè il fascismo punta moltissimo sui servizi sociali e aziendali e punta a propagandarli come realizzazioni del regime, cioè gli imprenditori creano questi servizi grazie al fatto che c'è il regime fascista, sono opere del regime, i servizi sociali e aziendali e naturalmente intervengono con l'opera nazionale dopo lavoro, da un lato coordinare le attività dopo lavoristiche che peraltro restano iniziative realizzate azienda per azienda e intervengono nel 28 con un accordo con Confindustria, il partito fascista interviene con un accordo con la Confindustria nel 1928 a creare una scuola per assistenti sociali di fabbrica che è il primo esempio di tentativo di professionalizzazione della figura dell'assistente sociale. Gli imprenditori grossomodo accettano che il fascismo presenti come proprie opere i servizi aziendali che loro pagano, perché però in cambio ottengono tutta una serie di vantaggi, compreso il fatto di tenere fuori dai luoghi di lavoro il sindacato fascista che diventa un ufficio legale di consulenza ma che non ha propri rappresentanti, non ha fiduciari come erano chiamati fino all'ottobre del 39, la rivendicazione di fiduciari di fabbrica viene avanzata immediatamente nel 23 quando il sindacato fascista chiede l'abolizione delle commissioni interne e la loro sostituzione con i fiduciari di fabbrica ma interviene Mussolini medesimo a dire che in azienda deve esistere una sola autorità tecnica e dunque di fiduciari non si deve nemmeno parlare, verranno poi istituiti soltanto verso la fine del 39 e quindi rispetto ai vantaggi che l'assetto dell'ordinamento sindacale che il fascismo dà agli imprenditori, gli imprenditori accettano di collarsi i costi di queste opere presentate come una realizzazione del regime. C'è poi un'evoluzione che è breve ma che è interessante durante la seconda guerra mondiale, nel senso che lì, specialmente dopo l'8 settembre, dopo la disarticolazione delle amministrazioni locali e tutti i problemi creati dei bombardamenti dallo sfollamento, tenete presente che le città, Milano ha due terzi della popolazione sfollata, Torino la metà della popolazione sfollata, quindi parliamo del periodo successivo ai sistematici bombardamenti dell'autunno che cominciano nell'autunno del 1942, i servizi che vengono erogati nelle aziende diventano fondamentali per la sopravvivenza stessa dei lavoratori, perché si organizzano orti di guerra, si organizzano aziende agricole create dalle imprese, rifornimenti di ogni genere, soprattutto generi alimentari e mezzi per il riscaldamento, ma anche i copertoni e le camere d'aria per le biciclette, perché c'è lo sfollamento e bisogna organizzare l'arrivo dei lavoratori nelle fabbriche. Dunque, l'impresa acquista una centralità nella vita dei centri produttivi e diventa quasi una comunità di privilegio, nel senso che lì ci si garantisce la sopravvivenza, non più soltanto il dopolavoro, il tempo libero o anche servizi più significativi, come la casa o le colonie o le mutue, ma si tratta proprio di sopravvivenza. E l'altro effetto che è collegato, vi leggo questa buffa citazione che ha a che fare un po' con l'idea che viene lanciata della fabbrica come luogo della comunità, questa è una citazione da questo giornale del dopolavoro Fiat dell'aprile del 43 che ha a che fare con la famosa minestra Fiat. Tu mangi in ufficino o in ufficio da alcuni mesi, ogni giorno la minestra Fiat, la mangiano tutti, siamo tutti su un piano di parità, dirigenti, funzionari, impiegati, operai. Questa minestra alla Fiat costa parecchio e potrà costare ancora di più, ma tu la paghi soltanto 60 centesimi, è di pasta o di riso senza tessera, è buona, ben condita, servita caldissima e abbondante in ogni reparto. Sono diverse decine di migliaia di minestre che la Fiat distribuisce quotidianamente. Tra l'altro ci sono immagini della coda di poveri fuori dagli stabilimenti Fiat che vanno a prendere la minestra Fiat ancora nel 46. I problemi portati dai bombardamenti, della disorganizzazione che ne consegue dallo sfollamento non solo della popolazione, ma anche dallo sfollamento dei reparti produttivi che vengono spostati in zone sicure, nelle gallerie del Garda, del Lago di Garda e così via, si crea un legame molto più stretto fra assistenza e produzione. Non si tratta solo più di manutenzione sociale del dipendente, si tratta proprio del fatto che senza l'intervento assistenziale la produzione si sarebbe totalmente fermata. Per risolvere questi problemi produttivi, per rendere efficiente l'assistenza, diventa sempre più necessario rilevare per bene quali sono i problemi che i lavoratori devono incontrare. Dunque non a caso vengono fatte rinascere le commissioni interne che vengono reistituite da un accordo fra Buozzi e Mazzini che erano i commissari badogliani alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di Confindustria che fanno questo accordo il 2 settembre per restituire le commissioni interne, ma la Repubblica di Salò le mantiene in vigore. E quindi l'assistenza viene gestita in collaborazione fra le direzioni aziendali e le commissioni interne. c'è quindi un potenziamento del ruolo delle commissioni interne, perché era più efficiente gestire questi servizi con l'apporto delle rappresentanze dei lavoratori che individuavano meglio i problemi che andavano affrontati e risolti. Si pone quindi durante la guerra un problema di partecipazione operaia, possiamo dire più in generale alla gestione dei servizi sociali aziendali, che si ribalta, si ripropone nel dopoguerra e qua ci sono come sappiamo due fasi, quella della fase dei governi di unità nazionale antifascista fino all'aprile e maggio del 1947, c'è il movimento per i consigli di gestione, c'è una situazione di esautoramento delle gerarchie aziendali, c'è la gestione inizialmente nel 1945 c'è la gestione commissariale delle imprese con gli imprenditori sottoposti a procedimento di epurazione ed è divertente che a Villarperosa il comandante comunista ceda il posto di sindaco al nipote del fondatore della Fiat che era in quel momento stato allontanato del suo posto di presidente della Fiat e sottoposto a un procedimento di operazione e la Fiat è sotto gestione commissariale. Ma è anche interessante che in alcuni casi gli accordi aziendali che prevedono l'istituzione di consigli di gestione, che non avranno mai in Italia una sanzione legislativa a differenza di quanto avviene in Francia, la Francia di Vichy c'è un parallelo piuttosto stretto fra ciò che avviene in Francia durante la seconda guerra e in Italia con la Repubblica di Salò, dove si creano i consigli di fabbrica sostanzialmente, i comités sociaux d'établissement a Vichy e in Italia i consigli di gestione previsti dal decreto sulla socializzazione delle imprese del febbraio del 44 e in Francia subito nel 45 vengono istituiti per legge i comitati di imprese, in Italia invece si discute a lungo e alla fine verranno abbandonati tutti i disegni di legge per l'istituzione dei consigli di gestione, però ci sono, esistono su base pattizia, su base di accordi aziendali e in molti casi il consiglio di gestione assume competenze anche deliberative sui servizi sociali aziendali, cioè il consiglio di gestione che decide come utilizzare il budget messo a disposizione dell'impresa per i servizi sociali e alla Fiat a capo dei servizi sociali aziendali viene nominato Battista Santià, vecchio collaboratore di Gramsci all'Ordine Nuovo che rimarrà al suo posto, dire il vero, fino a quando scoppia la guerra fredda in Fiat, fino a quando verrà licenziato in quanto comunista, però resta ancora per alcuni anni dopo il ritorno di Valletta alla direzione della Fiat che avviene nel marzo del 46, resta ancora lui a dirigere i servizi sociali aziendali. Quindi questa esperienza finisce, diciamo tra il 48 e il 50, i consigli di gestione spariscono, non resta in vita soltanto quello che mi è capitato di studiare alla Olivetti dove dura fino al 71, ma il resto d'Italia e consigli di gestione spariscono. Il periodo del miracolo economico, che è anche il periodo in cui si implementa davvero il sistema fordista in Italia, è il periodo di grande sviluppo del welfare aziendale, che è favorito dal fatto che in tutti gli anni del miracolo economico i salari aumentano meno della produttività del lavoro, c'è una forte capacità di autofinanziamento delle imprese in un mercato borsistico sempre molto sfittico, come sappiamo, e quindi insomma questo fatto dà alle imprese risorse per creare effettivamente un welfare aziendale in alcuni casi molto buono, che serve naturalmente come al solito anche a gestire la mano d'opera nel momento in cui davvero si implementa il taylor fordismo, perché sono questi gli anni delle catene di montaggio dedicate, dei ritmi di lavoro molto forti, dei tempi di ciclo, cioè la durata della mansione molto stretti, quindi della ripetitività, monotonia del lavoro, ma sono anche periodi di grande debolezza sindacale, perché come sappiamo la guerra fredda mette in forte contrapposizione le forze sindacali e crea una situazione di debolezza del sindacato e che favorisce il fatto che le aziende impongono condizioni di lavoro, una disciplina produttiva molto severa, dunque i servizi servono a guadagnare, se non proprio consenso, quantomeno acquiescenza, a questa rigida disciplina produttiva. Il problema è che ora, forse più ancora che in passato, anzi non più che in passato, però continuano ancora, nonostante i tentativi di creare sistemi di previdenza sociale, di migliorare i sistemi di previdenza sociale in Italia, nonostante il fatto che si vada molto lentamente verso la sicurezza sociale, i servizi aziendali sono di avanguardia, specialmente nelle grandi imprese, ma a volte anche nelle medie imprese e in qualche misura questi fanno da battistrada al welfare pubblico, che è ancora embrionale, ancora deficitaria, quindi garantiscono una condizione di relativo privilegio ai lavoratori delle imprese che possono godere di questi servizi. Quali sono le reazioni del mondo del lavoro, del movimento operaio a questa situazione? Diciamo c'è un movimento operaio di matrice socialista e comunista nella CGL, che è legato anche ovviamente al Partito Comunista, prevalentemente in parte anche al Partito Socialista, che nella guerra fredda cerca di mettere in piedi una sorta di competizione sui servizi offerti alla popolazione e nel territorio, nei quartieri operai, nel mondo dell'associazionismo, che ha una lunga tradizione come sappiamo, si creano dei servizi che si pongono quasi in competizione con i servizi prodotti dall'azienda, per cui Ludi organizza le colonie per i dipendenti, ma organizza anche per i dipendenti, scusate, organizza le colonie per i figli della comunità operaia locale, organizza i doposcuola, organizzano le competizioni sportive, le competizioni canore, organizzano il tempo libero, in contrapposizione al tempo libero dei dopolavori aziendali. C'è proprio una sorta di competizione nell'offrire servizi, ed è una competizione però che riguarda anche le diverse componenti del movimento operaio, quella cattolica, quella laico-moderata, per cui CIS, Lui, le CGL, con i loro riferimenti politici che sono molto stretti, perché nonostante tutti i tentativi, come dire, di autonomizzarsi negli anni 50, CGL è legata al Partito Comunista innanzitutto, in subordine al Partito Socialista, la CIS è legata alla DCE, la UIL al Partito Socialdemocratico e al Partito Repubblicano, e organizzano sistematicamente queste attività, anche in competizione fra di loro. Bene, è interessante il fatto che, a seguito della sconfitta che nel 1955 si verifica le elezioni di commissione interna per la CGL, soprattutto per la FIOM, ma non solo, anche per altre categorie, non solo alla FIAT, ma in generale in molte grandi e medie imprese in Italia, una sconfitta che diventa ancora più pesante nel 1956 per i riflessi del fatti di Ungheria. Ecco, questa, come si sa, suscita la famosa autocritica di Di Vittorio, di cui vi voglio citare alcune frasi. Di Vittorio, in questa sua autocritica che pronuncia il direttivo della CGL, subito dopo la sconfitta delle elezioni del marzo del 1955 alla FIAT, siamo nell'aprile, dice che i servizi aziendali sono una delle cause della perdita di consenso della CGL. Il sindacato non aveva sufficientemente chiarito a tutti i lavoratori che questi vantaggi, a volte anche considerevoli, non sono in nessun modo benefiche concessioni dei padroni dei grandi monopoli, ma la polemica contro il capitalismo monopolistico, ma costituiscono un preciso diritto dei lavoratori. Le aziende erano in grado di concedere miglioramenti sotto forma di servizi grazie agli alti profitti realizzati, pertanto il sindacato doveva chiedere non soltanto e sempre aumenti di salario o aumenti delle tariffe di cottimo, ma anche la colonia per i bambini, la casa, il sussidio straordinario, il prestito e così via. Ciò che assumeva l'aspetto di una concezione paternalistica doveva, con una lotta tenace, essere trasformato in un sacrosanto diritto, quindi il tentativo di trasformare in diritto per via contrattuale, evidentemente, non un diritto per via legislativa, ma un diritto contrattuale ai servizi sociali e aziendali. La Cisla, come sappiamo, percorre un processo di avvicinamento perlomeno nelle sue categorie industriali, soprattutto i metalmeccanici e chimici, percorre un processo di avvicinamento alla CGL che prende corpo alla fine degli anni 50 e comincia a realizzarsi all'inizio degli anni 60, quando c'è sostanzialmente il pieno impiego e riparte un ciclo di lote, e probabilmente, insomma, io sono convinto che il ciclo degli anni 70 in realtà abbia il suo inizio nel 1960. Ecco, come sappiamo c'è questo avvicinamento che è dovuto al fatto che una proposta di modello di relazioni industriali basato su una collaborazione alla produttività, una proposta che la Cisla avanza negli anni 50 e che nasce all'interno dei comitati per la produttività del piano Marshall, in realtà non è accettata dagli imprenditori, che una volta sconfitto il sindacalismo oppositivo della CGL, puntano a tornare ad una gestione autocratica dei rapporti con i dipendenti, come era avvenuto durante il fascismo sostanzialmente, cioè ci si rapporta ai dipendenti attraverso la struttura della gerarchia aziendale senza ammettere dei correttivi di tipo sindacale, senza attribuire al sindacato un ruolo effettivo di rappresentante dei lavoratori. E questo rifiuto imprenditoriale di aderire alla proposta di relazioni industriali che veniva dalla Cisla sarà quella che, come sappiamo, spinge Pastore in prima persona a chiedere il distacco delle industrie di Stato dalla Confindustria, che porterà alla nascita del Ministero delle partecipazioni statali e poi dell'InterSind per le aziende IRI e dell'ASAP per le aziende ENI, che si distaccano da Confindustria con grandi polemiche, come sappiamo, anche perché erano un bel pezzo dei dipendenti. Sapete che i contributi a Confindustria le imprese le pagano in base al numero dei dipendenti, quindi era anche un bel danno economico per Confindustria. Ecco, la Cisla comincia a definire i servizi come una forma di salario indiretto al quale è del tutto legittimo estendere la materia contrattuale. Dunque anche la Cisla comincia a porre il tema della contrattualizzazione dei servizi, quindi porre i servizi sul piano delle rivendicazioni sindacali. E se per la CGL il paternalismo ostacolava l'adesione dei lavoratori alle lotte per il lavoro, per la Cisla ostacolava il pieno di spiegarsi di un modello contrattualista, non della contrattazione. quando declina relativamente l'importanza dei servizi aziendali, grosso modo alla fine del miracolo economico, diciamo secondo metà degli anni 60 e poi anni 70, perché appunto cominciano quelle novità che sono state riassunte ora molto bene da Ilaria, ma c'è nel 68 c'è il grande sciopero sulle pensioni, il primo grande sciopero sulle pensioni e sostanzialmente insomma il miracolo economico mette a disposizione maggiori risorse allo Stato per attuare dei servizi più adeguati da un lato e dall'altro cambia proprio anche l'idea stessa di sicurezza sociali, l'idea che ci siano dei diritti sociali comincia ad affermarsi più pienamente, dunque a volte si decide anche di utilizzare la spesa pubblica oltre i limiti che un tempo sarebbero stati considerati invalicabili. A fronte del fatto che diventa sempre più adeguata la prestazione pubblica, il mondo delle imprese cerca di ridurre le prestazioni aziendali, anche perché il numero dei dipendenti nelle imprese mediogranti diventa enorme e quindi il costo dei servizi diventa davvero un pezzo di budget molto consistente per le imprese che cominciano a giudicare non più sopportabili quei costi, un conto era offrire servizi a 50 mila dipendenti, un conto è offrirli a 200 mila, un conto è offrire servizi come nel caso dell'Olivetti a 4 o 5 mila dipendenti o a 60 mila, quindi c'è questo problema. Come reagiscono i sindacati? Che cercano invece di mantenere alta la spesa in servizi da parte delle imprese e puntano su delle voci alternative, in particolare le mense, che non a caso entrano lo statuto dei lavoratori, l'articolo 11 che metterà fine anche all'esperienza del consiglio di gestione dell'Olivetti, perché l'articolo 11 dello studio dei lavoratori dice che le attività culturali, recreative ed assistenziali promosse dall'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Quindi dove ci sono servizi aziendali questi devono essere gestiti da organismi a maggioranza dei lavoratori, è quasi un'introduzione dei comitè d'entreprise alla francese, che passa non per una legge apposita, ma per un articolo dello Stituto dei Lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali costituiti a norma dell'articolo 19 hanno diritto a controllare la qualità dei servizi di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, quindi si comincia a puntare su servizi alternativi. D'altra parte non si può dimenticare che nella realizzazione a livello più elevato di sistemi di welfare o di sicurezza sociale, permettetemi questa ambiguità terminologica, degli anni 70 conta anche proprio molto l'iniziativa sindacale, come sappiamo Gino Giugno ha parlato di supplenza sindacale, i sindacati che mettono da parte i partiti e trattano direttamente col governo come controparte per riforme, pensioni, case, trasporti, sanità, scuola, ci potremmo mettere gli investimenti al sud e così via. Nella misura in cui le prestazioni pubbliche vengono portate a un livello adeguato, generalizzati a tutti i lavoratori o ai cittadini, è il caso del servizio sanitario nazionale che arriva alla fine degli anni 70 e che è l'unico caso, credo, non si possa dire di servizio universalistico e non lavoristico, di servizio di misura di sicurezza sociale. Il caso più eclatante è appunto il servizio sanitario che porta alla scomparsa delle mutue aziendali, non senza proteste molto forti da parte dei lavoratori che si vedono sottratto un servizio mutualistico aziendale che in molti casi nelle fasi iniziali quantomeno non offriva prestazioni più adeguate che non l'ente pubblico che tarderà un po' a mettersi in marcia, anche se poi indubbiamente il sistema sanitario nazionale avrà delle permanenze di tutto rilievo. Si potrebbe dire che il welfare aziendale sembra seguire la parabola discendente del modello fordista che più l'aveva esaltato. Siamo negli anni 70, nel momento della crisi del fordismo, un momento di passaggio e il welfare aziendale perde di peso quasi seguendo la sorte del sistema fordista. Nel post-fordismo si va verso un nuovo welfare aziendale contrattato e qui ci sono diversi problemi. Uno è il fatto che i tagli alla spesa sociale tendono a diminuire le prestazioni del settore pubblico da un lato e quindi c'è in qualche modo il bisogno di recuperare rispetto a una diminuzione di prestazioni da parte dello Stato. Ma emergono anche proposte di nuovi sistemi di relazione industriale dove si comincia a sostenere che senza una partecipazione dei lavoratori alla configurazione dell'organizzazione e del lavoro o meglio senza una partecipazione fatta di responsabilizzazione del lavoratore al buon andamento della produzione non si possono raggiungere miglioramenti della produttività e che dunque produttività e competitività delle imprese hanno bisogno di un nuovo sistema di relazioni industriali. Questa è una proposta che prevalentemente alligna di nuovo in ambiente cislino che però al di là di tutte le contrapposizioni ideologiche nella prassi concreta viene poi perseguita anche dalle altre organizzazioni sindacali, FIOM compresa. E dunque si comincia a sostenere che la contrattazione aziendale o territoriale di misura di welfare può consentire ai lavoratori di acquisire prestazioni e servizi da un lato difficilmente ottenibili da parte dei singoli lavoratori. Quindi si contrattualizza di nuovo il servizio, se ne fa una sorta di diritto contrattuale collettivo e servizi che sono anche però mirati rispetto a esigenze particolari di situazioni lavorative sempre più frammentate, sempre meno omogenee che determinano bisogni differenziati. Dunque una capacità del servizio di rispondere a bisogni particolari. E infine per chiudere vi faccio un elenco di esempi di materia di welfare contrattuale che sono già stati effettivamente rilevati da indagini sulla situazione attuale. Fondi integrativi per assistenza sanitaria e previdenza complementare, congedi di maternità paternità, permessi, trattamenti di malattie infortuni o aggiuntivi ovviamente, a quelli garantiti dalla mano pubblica, cure termali, ticket pass, ce n'è una lista molto lunga che non sto a leggermi. L'ultimo, indenità complementare di disoccupazione, non è ancora stato rilevato, mentre gli altri sono già stati oggetto di rilevazione concreta, nascono già da patruzioni contrattuali effettivamente raggiunte. L'ultimo è molto embrionale, è legato molto al Jobs Act e ai sostenitori del Jobs Act che sostengono che tra le materie contrattuali il sindacato farebbe bene a contrattare anche indennità complementare di disoccupazione, che è come dire il sussidio di disoccupazione, fatevelo pagare dagli imprenditori. no? Ecco, allora, visto che lo Stato non ve lo dà, no? Allora qui si aprono una serie di curiosi problemi che sono strettamente collegati alle bellissime relazioni che ho sentito oggi senza piageria, permettetemi di ringraziarvi, perché c'è il tema della sussidiarietà che riemerge fortemente e c'è il tema appunto della contrattualizzazione dei servizi che riemerge prepotentemente. E c'è però di nuovo anche, è evidente, un rischio di frammentazione dei servizi, no? Perché in fondo l'avversione che la cultura sindacale CGL ha mostrato, le resistenze che poi vengono spesso superate, ma rispetto agli enti bilaterali, al ruolo del bilateralismo e al ruolo del welfare contrattuale, stanno nel fatto che si tratta di nuovo di un tipo di welfare non universalistico, ma nemmeno lavoristico, si può dire, no? O perlomeno torna ad essere lavoristico nel senso della frammentazione corporativa del fascismo, che appunto ha lasciato questa eredità drammatica, no? Ancora oggi, se si vanno a vedere i conti delle varie casse speciali che compongono l'Inps, si scopre che l'unica cassa che ha un bilancio inattivo è quella dei lavoratori dipendenti, tutte le altre, a cominciare da quella dei dirigenti, sono in pesante passivo, no? Quindi questa eredità della frammentazione corporativa dei sistemi previdenziali che il fascismo ha lasciato all'Italia democristiana del dopoguerra ha una coda ancora oggi molto consistente e, come dire, nel post-fordismo queste modalità di contrattazione del welfare di nuovo a livello aziendale o territoriale o di settore attraverso gli enti bilaterali, suona di nuovo come una frammentazione della prestazione sempre meno universalistica e sempre più legata alle proprie posizioni lavoristiche e anche alla propria forza contrattuale. Grazie. Bene, grazie tantissimo, sono emerse molte, molte questioni, appunto il ruolo dei attori sociali e politici, le ideologie prevalenti, lavorista, produttivistica, soprattutto questo tratto che dal fascismo in poi è rimasto corporativo e particolaristico, nuovi paradigmi come quelli della sicurezza sociale, rapporti controversi e contrastati anche qui con grosse linee di continuità, soprattutto nel rapporto tra tecnica e politica, tra scienza e Stato, insomma c'è tantissima carne al fuoco per la discussione, quindi c'era già da stamattina una domanda sospesa alla quale diamo subito la priorità. Grazie. Grazie. Da perfezionando in storia preciso, è un po' complesso poi avvicinarsi anche a temi che riguardano la filosofia del diritto e anche la cultura giuridica sostanzialmente, però lo faccio a memoria di un passaggio che mi sono ricordato stamattina, di una presentazione forse era di Jacques Le Goff, fatto un testo di Paolo Grossi, storico del diritto all'Università di Firenze, se non sbaglio adesso la Corte Costituzionale peraltro, è il suo regatore, se non sbaglio, è insomma Le Goff, analizzando un testo che si intitolava l'Europa del diritto, quindi legato anche al pluralismo giuridico dell'Europa medievale in modo particolare e che tipo di influsso ha avuto nel corso della storia del nostro continente, sostanzialmente dice facciamo attenzione perché molto spesso la produzione normativa, il diritto nella sua complessità la consideriamo come una mera produzione statuale quando invece è una produzione della società nel suo complesso, della vita vissuta, insomma una produzione storica, facciamo attenzione a questo ambito e facciamo sì che insomma si possa anche utilizzare qualche elemento e anche i problemi stessi della cultura e della filosofia giuridica affinché insomma si possano avere chiavi e letture interpretative a livello storico, quindi utilizzo un vecchio problema che era stato sollevato da un docente di filosofia del diritto all'università di Pisa tramite una sua pubblicazione, si chiama Tommaso Greco ed è connesso specialmente al legame fra, alla questione che ne connette diritto e legame sociale, lì proprio in un capitolo che era significativamente intitolato dall'amicizia alla fraternità, l'amicizia inteso come virtuoristelica alla fraternità inteso come stamattina e mattina veniva anche fatto notare come quasi antipasto, ecco, di uno stato sociale attraverso un po' le chiavi di lettura della rivoluzione francese Greco faceva riferimento a un testo di Pierpaolo Portinaro in cui sostanzialmente declinava la nascita dello stato sociale attraverso due canali interpretativi, il primo è la relazione conflittuale in rapporto complementare o meno fra una istituzionalizzazione delle forme di solidarietà di base, quindi dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso invece un processo di istituzionalizzazione che lui fa partire convenzionalmente, ma insomma è un percorso che è stato riconosciuto anche nel corso del convegno di oggi, dall'alto verso il basso invece a partire dalla fine dell'Ottocento sostanzialmente. Il secondo elemento di analisi che pone Portinaro è che questo processo discendente dall'alto verso il basso di una imposizione del, detto in termini quasi brutali, dello stato sociale, quindi dall'alto verso il basso porta a un declino delle forme di solidarietà diffusa, forme di mutuo assistenza diciamo più connessa alla storia del movimento operaio. Quindi la mia domanda, riflessione, osservazione chiedo scusa se magari è un po' originale, è che funzione ha nell'ambito della creazione del diritto nel nostro tempo, quella che lei ha citata se non sbaglio essere una inevitabile frammentazione per poter garantire legislazione sociale. Il rischio non è che il pluralismo giuridico, già noto a chi analizza la filosofia del diritto nell'ambito del medioevo, il pluralismo anche delle forme con cui le comunità sono anche diffuse, non rischia anche di diventare una frammentazione infinita di tendenza quasi corporativa dei vari luoghi con cui si declina lo stato sociale. Questa è una domanda che provo a raggiungere anche altri elementi con la seconda questione che sollevo, cioè la questione dei luoghi della sicurezza sociale. Faccio riferimento a un elemento che ho avuto modo di analizzare attraverso ricerche negli anni passati che sono forme anche di mutuo assistenza, autogestione nel nord Passo di Calais, nel nord francese. Nell'ambito di queste ricerche scoprivo, analizzavo come la sicurezza sociale declinata in quella forma paternalistica che il professor Musso individuava come una strategia paternalista aziendale, una delle tre, si costruiva a partire dall'inizio del Novecento in quell'area della Francia quando per costruire alcune forme di assegni assicurativi e di edilizia popolare i locali produttori tessili, i locali proprietari di miniere particolarmente diffuse nell'area, alcune istituzioni locali, il comune di Lille, in modo particolare il comune di Roubaix sostanzialmente, a prescindere anche dalla colorazione politica. Questo poi ha dato anche luogo a forme di socialismo municipale che per mille febbre uno storico di Lille sono pressoché clientelismo sostanzialmente, però attraverso questa compartecipazione, ecco, con una dimensione fortemente anche paternalista che è individuata anche nelle fonti archivistiche dei luoghi sostanzialmente, dall'inizio del Novecento fino all'inizio degli anni Sessanta, all'incirca si è dato luogo a un, diciamo così, welfare comunitario fortemente partecipativo, fortemente connotato da un legame con il territorio, dopodiché anche fortemente corporativo, fortemente escludente, ricordando quella dicotomia fra facciamo lo Stato sociale per i lavoratori oppure per i cittadini, ma soprattutto per i lavoratori e per i cittadini di quale area? Il rischio della frammentazione giuridica non può diventare anche il rischio della frammentazione dei luoghi in cui poi è in effetti praticata la sicurezza e l'assistenza sociale, perché è davvero chiudo, quando nel corso degli anni Settanta, sempre in Francia, più che altro per studi cari, mettiamola così, la CFDT, il sindacato ex cattolico deconfessionalizzato pone con molta forza il tema dell'autogestione, prova a proporlo anche dal punto di vista di una ricostruzione dello Stato sociale, attraverso questa parola guida, questo slogan del 68 che ha una storia tutta sua, diciamo, per non allungare il brodo. Quando si confrontano con il padronato francese, il padronato dice sostanzialmente, badate voi state chiedendo quella stessa dimensione clientelare, corporativa, frammentata, che avete praticato come socialismo municipale nel nord passo di Galè che noi abbiamo rifiutato, ma che voi chiedete di riprendere. Ecco, questo poi porterà Edmond Mer e tutta una serie anche di dirigenti di quel sindacato a dire, badate noi quando parliamo di autogestione parliamo non del villaggio aziendale sostanzialmente, quanto anche di una ricostruzione dei legami nell'ambito delle comunità urbane che ospitano l'impresa, che ospitano la fabbrica. Tuttavia, insomma, è una critica abbastanza forte perché poggia su una dimensione corporativa effettivamente esistente e anche su forme di esclusione che sono effettivamente esistenti. Quindi chiudo la domanda sperando di aver offerto qualche osservazione non estemporanea. No, no, non so, ora cercherò di essere abbastanza chiara anche se le faccende sono abbastanza intrigate. Allora, una cosa che mi veniva in mente anche da stamani è il problema del soggetto ovviamente, il soggetto a cui si rivolge, cosa si rivolge? La beneficenza, la tutela, l'assistenza, attenzione, sono termini diversi e consideravo una cosa che in Italia in realtà se togliamo la legislazione importante che riguarda le assicurazioni e gli infortuni, cioè le assicurazioni per gli infortuni, poi la prima grossa legge complessiva è quella del 1902 sulle lavoratrici madri e che si rivolge a, e quindi questa cosa del lavoro ci sta nel senso che si rivolge a una limitata categoria di lavoratrici che però poi alla fin fine erano, se si esclude le maestre, le mie postele grafoniche che poi non erano molte, erano le lavoratrici dell'industria che sarebbero state la maggioranza se non ci fossero state le lavoratrici agricole però insomma è una categoria abbastanza estesa, quindi però solo come lavoratrici e qui si è aperto tutto nella gender history tutta una discussione ovviamente che tutti noi conosciamo penso sul rapporto tra madre e lavoratrice e via discorrendo che però è utile perché pone la questione che diceva Ilaria prima, cioè il cittadino o il lavoratore, la cittadina o la lavoratrice. In questo senso il fascismo secondo me introduce una cosa un po' diversa perché in realtà il miserevole omni però è rivolto a tutte le madri, in situazioni disagiate sul modello un po' statunitense, insomma poi riri, mentre invece nel dopoguerra sotto questo aspetto qua, cioè la lavoratrice, si torna a un concetto, si introduce un concetto diverso o meglio si torna al vecchio concetto della lavoratrice che in effetti non è, esclude la cittadina come esclude il cittadino in quanto tale, però appunto come forse chiara ha una componente di riconoscimento del diritto al lavoro alle donne che insomma c'ha un suo peso, ecco poi verrà estesa, veniamo solo sulla maternità, che poi verrà estesa e quindi anche il soggetto che è destinatario della legislazione sociale, chiamiamola così, dell'assistenza sociale forse meglio, legata però comunque a processi legislativi è abbastanza importante, come c'è tutta la questione dei minori che insomma anche lì è abbastanza complessa perché in realtà rispetto a altri paesi l'Italia è molto più indietro su questa questione qui, forse ancora di più che rispetto diciamo agli adulti, perché il piano Bevere è importante anche sotto quell'aspetto lì. L'altra questione era quella sull'wellfare aziendale, taglio alcune cose, lì è interessante vedere, cioè abbiamo questo rapporto con l'wellfare aziendale privato, l'wellfare aziendale pubblico, cioè del dipendenze pubblico, io pensavo alla cosa delle case, cioè è poi studiata appunto anche lavoratrici statali, quelle di cui si diceva prima, le famose poste legate, e lì la questione delle case, già il fascismo fa una sola cosa, le case, le fa anche per altri statali, ma insomma la questione della casa per esempio è, e non sono esattamente case popolari, attenzione, sono un altro tipo di edilizia perché si rivolge a settori prevalentemente impiegatizi. Nel dopoguerra, lì effettivamente c'è il lavoratore statale, allora probabilmente ha anche dei privilegi rispetto a quello delle aziende, è un wellfare diverso e lì bisogna vedere se è un wellfare che si rivolge, che cura più la produttività, banalmente, cioè facendo un po' il qualunquist si potrebbe dire che non ha a scopo la produttività, o no, primariamente la produttività, non so se sei d'accordo, ma forse il consenso. Anche nel secondo dopoguerra, non a caso, insomma, almeno gli studi, io nel secondo dopoguerra non mi sono occupata, però dagli studi che ho visto di democrazia cristiana, CISL, la presenza della CISL, il successo che ha la CISL e lì ancora la casa, ancora le colonie, insomma ancora, è interessante vedere anche una cosa perché questo tipo di benefici, diciamo, di benefit quasi davvero sono in questo, per l'impendente statale va dal dirigente all'operaio. io mi ricordo la Befana, la mia madre dipendente statale, no, mio padre dipendente statale, mia madre dipendente privato. Allora, essendo un'impiegata, insomma, non di altissimo livello, noi avevamo la Befana, ma non l'avevano i figli dei funzionari al SIP, tanto per parlare chiaro. Nell'ufficio di mio padre, e lui l'avevano tutti, insomma, dal dirigente al fattorino. Ecco, questo può essere anche questo che, in qualche modo, questa articolazione sostituisce qualcosa di più pubblico, almeno fino agli anni Sessanta, come diceva anche, anche nel settore del pubblico impiego, che può essere interessante paragonare, insomma, anche al privato rispetto all'Uelfare, e anche al discorso sull'Uelfare pubblico, che stenta a partire. Devo darlo a qualcuno? Allora, sono davvero un po' stanca, quindi spero di mettere insieme le parole necessarie. La domanda, questa è complicatissima, cioè se ho ben capito, se il fatto che le politiche di senso lato sociale facciano capo allo Stato, in qualche modo azzerano le forme di solidarietà sociale, chiamiamolo così, o comunque a origine sociale, a formazione sociale. Sì, in parte sì, per esempio questo bellissimo libro di Rosanne Vallon che ho più volte citato, si fonda un po' su questa tesi, cioè lui parte dalla crisi dello Stato sociale degli anni Ottanta e dice questa crisi dello Stato sociale nasce anche perché lo Stato sociale si è come dire, perché non si riesce a uscire dal dilemma privatizzazione e pubblicizzazione. E questo è un tipico dilemma di tipo ancora individualistico. Lui dice paradossalmente più è sgranata la società, più è atomistica la società, più la società si concepisce, dice lui, come corpo che come mercato, più il ruolo sociale dello Stato è implementato. Lui dice paradossalmente se la società fosse davvero un insieme di cellule, lo Stato la coprirebbe per intero, usa questa espressione. Quindi questo sicuramente è molto vero. Ed è chiaro anche che la sfida in gran parte attuale anche dei sistemi di welfare è quello di riuscire a connettere in maniera adeguata le forme privato comunitarie di solidarietà in senso lato, uso questi termini in modo improprio ma per capirsi, con la presenza anche dell'organizzazione statuale. Ora io personalmente ritengo che questa tensione tra dimensione statuale, quindi come una dimensione sovrana, una dimensione unitaria e dimensione sociale, sia una tensione benefica che deve sempre essere presente proprio per evitare il rischio opposto, cioè il totale sgranarsi che è l'altro rischio che segnalavi mi pare se non sbaglio, cioè quella frammentazione di tipo corporativo, di totale privatizzazione delle, o comunque che crea poi rischi di sacche di privilegio, di disparità di trattamento, cioè rifrantumano l'orizzonte delle politiche sociali. E questo però richiama un po' l'idea che sia dell'ordine, dell'ordine gius politico. Innanzitutto bisognerebbe riconoscere la società e gli enti sociali, come enti fino in fondo giuridici, riconoscergli uno spessore, anche un riconoscimento di queste cose più che private, meno che pubbliche, diceva Cesarini Sforza, quindi sono dimensioni autorevoli e autoritarie anche nei confronti dei singoli partecipanti, ma non hanno quella, diciamo non vivono nella dimensione dell'eteronomia come il comando pubblico, quindi bisognerebbe innanzitutto riconoscere questa testitura sociale. Per esempio uno dei rischi, credo anche rispetto all'intervento di Stefano, è stato ben rilevato dalla gius lavoristica, cioè la cittadinanza e il diritto privato delle organizzazioni sindacali, se valsa a evitare ipotesi di reggimentazione autoritaria, tutto quello che sappiamo, certo tende a diventare rischiosa perché nel momento in cui la forza contrattuale delle organizzazioni si depotenziano, non so come dire, per cui questa dimensione pluralistica sociale rischia di perdere alcuni attori che rappresentano, possono rappresentare o dovrebbero rappresentare un interlocutore dialettico rispetto per esempio al lato imprenditoriale. E quindi la grande sfida secondo me è quella di coniugare queste dimensioni e per questo che forse esistono anche le Costituzioni, cioè la Costituzione dovrebbe indicare una griglia progettuale comune condivisa che deve essere capace di informare l'azione degli attori privati e pubblici, cioè evitare lo sgretolamento della società ma evitare allo stesso tempo che la ripresa di vigore della società consiste in un suo smaciullamento con conseguenti problemi di moltiplicazione degli statuti giuridici, di diversità di trattamento eccetera. E quindi quando lei mi parla di Paolo Grossi, come dire, Paolo Grossi vede in questa rinascita del diritto, lui la valuta come una rinascita del diritto, cioè il diritto che sta stretto, da sempre sta stretto, che non è nella sua natura stare solo nel calco statuale, quindi si prende una grande rivincita perché ha una dimensione ordinativa e come tale deve guadagnare un'aderenza alla realtà dei fatti economico sociali maggiore di quella che gli deriva dalla legge, per cui il diritto pullula in un sacco di posti che il potere non vuole, non sa vedere eccetera. E chiaramente questo è vero, è anche un grande atto di amore e di fiducia per il diritto, è chiaro anche però che il diritto di produzione sociale può essere a volte l'espressione del soggetto socialmente prevaricante o prepotente, non so come dire, cioè il grande studio legale che fa regolamento contrattuale non sempre può essere diciamo una traduzione convincente di un'idea per esempio democratica di convivenza. Ed è per questo che io ritengo che istanze sovrasociali, lo Stato o la comunità sovranazionale, possano e debbano avere un ruolo nel mantenersi tutori e garanti di certi di un equilibrio di valori che dovrebbe essere tipico delle convivenze democratiche. Spero che non abbia che il welfare per i dipendenti pubblici, penso che per un grosso modo abbia seguito dei percorsi troppo differenti da quello dei dipendenti privati, anche se ho molte poche competenze e conoscenze sulla dimensione dei servizi di welfare per i dipendenti pubblici. Di certo anche tra i dipendenti pubblici bisognerebbe fare una distinzione fra i dipendenti degli enti ministeriali, degli enti locali, delle aziende municipalizzate di giolettiana memoria e delle aziende di Stato di fascistica memoria, di beneduciana memoria insomma, perché indubbiamente per molti aspetti le aziende municipalizzate, ad esempio, offrivano delle prestazioni ai dipendenti che in qualche modo erano più vantaggiose di quelle che venivano offerte dalle imprese private, sotto molti aspetti, non soltanto nei sistemi di welfare, ma per esempio nelle mutue aziendali, nell'iscrizione alla cassa ancora volontaria di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia, quindi come dire no, attuavano tutta una serie di iniziative che andavano in direzione di una maggior protezione del lavoratore, quindi anche spesso le aziende pubbliche, magari di enti locali, non necessariamente di Stato, indicavano a loro volta la strada, alle aziende private, come qualità dei servizi. Penso che tu avessi ragione a sottolineare che grossomodo poi il ruolo fosse quello, non so se si possa fare una distinzione fra consenso e produttività come finalità, perché sulla produttività delle pubbliche amministrazioni, ahimè, bisognerebbe aprire un discorso molto complicato, ma la produttività richiede consenso, almeno nelle aziende private e anche in qualunque azienda, anche pubblica, i due termini non possono essere separati. Certo, ci poteva essere un maggior interesse dell'autorità politica che concede al dipendente pubblico determinate prestazioni, non tanto per ottenere una maggior produttività del dipendente quanto alla qualità della prestazione che dà, quanto in termini di consenso politico elettorale, questo sì, questo sì senz'altro. Direi ancora, se mi permettete, una battuta a proposito di frammentazione, luoghi, Stato provvidenza, eccetera. Questa critica allo Stato provvidenza come distruttore dei legami sociali precedenti, ha percorso in Francia anche tutti gli esponenti della cosiddetta Révolution du Tranchoisy, questi che hanno cominciato a proporre sulla scia di André Gozzi soprattutto, hanno l'idea del lavorare meno per lavorare tutti, una riduzione dell'orario di lavoro, perché comunque la mega macchina che ti inquadra nel lavoro dipendente, determina comunque un lavoro di tipo alienato e la realizzazione di sé invece deve avvenire nel tempo libero e anche nelle attività solidaristiche, nei legami sociali che si possono ricostruire grazie alla disponibilità di tempo. Quindi è un discorso che ha attraversato vari canali. Per quel che riguarda il problema della frammentazione nella dimensione della contrattazione aziendale dei servizi, perché tutti quei servizi che prima ho elencato, c'è scritto welfare contratuale, sì, ma una contrattazione aziendale, sono differenze azienda per azienda, sostanzialmente. Di territoriale c'è poco, c'è qualcosa che ha a che fare con i settori, con gli enti bilaterali, per un discorso più complicato. C'è da dire che con tutte le critiche che si possono fare a questi sistemi, almeno due, come dire, possibili aspetti positivi ci possono essere. Uno è quello che si possono sperimentare delle buone pratiche che poi possono eventualmente essere generalizzate ad altre situazioni. E l'altro aspetto positivo, indubbiamente, è che il servizio viene calibrato su bisogni che sono bisogni localizzati, che sono di quelle categorie, di quel tipo di lavoratore, di quel tipo di realtà. E dunque c'è, come dire, una possibilità di far aderire meglio il servizio al bisogno, mentre se tu generalizzi e universalizzi dai uno schema uguale per tutti. Quindi ovviamente c'è una tensione anche in questo caso, tra i due poli, per cui forse è bene stare a vedere come possono giocare. Da un lato tutelando una sorta di universalità della prestazione del servizio, puntando appunto ad una generalizzazione, e dall'altra però non soffocare in uno schema uguale per tutti il soddisfacimento di bisogni che possono essere differenziati. Abbiamo detto stamattina, in conclusione della nostra discussione, come alla fine diritti sociali e diritti di partecipazione politica risultino legati, un poveraccio materialmente ha difficoltà a partecipare alla vita politica del Paese. Ora però mi sembra da storico che questa particolare concezione sia storicamente determinata, sì, in un preciso momento della vicenda filosofica e istituzionale del nostro Paese. E non solo del nostro Paese, per quanto riguarda l'Italia possiamo mettere un riferimento alla linea Gobetti-Bobbio, per quanto riguarda l'estero, possiamo metterci due che parallelamente arriva a simili conclusioni. Ora, se noi valutiamo come storicamente determinata questa concezione, non dovremmo anche mettere in discussione quelle grandi categorie che un po' tutti usiamo, quelle grandi categorie generazionali dei diritti, cioè effettivamente possiamo parlare di diritti, di diritti sociali, diritti di partecipazione, politica, diritti civili, insomma la triade bobbiana, che se la vogliamo trasferire anche sul piano dei diritti umani, possiamo ragionare sul fatto che questi diritti si muovono non solo generazionalmente, cioè quando si esaurisce la fase storica dell'uno e incomincia l'altro, ma si muovono parallelamente, questo mi sembra particolarmente evidente per il periodo tra le due guerre e per la fase di riformulazione che abbiamo visto nell'immediato secondo e dopo guerra. E quindi in questo senso i diritti sociali non siano, secondo la definizione marcelliana, un passo ulteriore rispetto ai diritti civili, ma si pongono in una logica che può essere oppositiva, può essere parallela, viaggiano paralleli senza incontrarsi e si incontrano nel momento in cui, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo questa riformulazione di diritti di partecipazione politica, che cosa significa la partecipazione politica, che cosa dobbiamo fare per fare in modo che tutti partecipino alla gestione della cosa pubblica. in questo senso, in quel momento, davvero l'incontro tra diritti sociali e diritti di prima generazione avviene nella sua forma più compiuta. Quindi mi chiedo se le riflessioni di oggi non possono aiutare a mettere in discussione la genealogia tradizionale delle generazioni di diritti e cercare di vederle più su un piano di parallelismo o di competizione che su un piano genealogico. Francamente avevo qualche perplessità, perché non credo che si possa stabilire dei parallelismi troppo rigidi tra storia del suffragio e storia dei diritti sociali, forse la vicenda francese lo dimostra, in definitiva la Francia non abbandona il suffragio universale dal 1948, ne pone il secondo impero, passa la terza repubblica, però non mi sentirei di dire che il secondo impero è una realtà di diritti sociali, non mi sembrerebbe un'anticipazione, è chiaro che il 1948 è un momento di immersione di prospettive sociali importanti, ma non ha esiti poi nel periodo successivo. Anche il caso inglese in definitiva ci fa vedere una rilevanza alla dimensione sociale, dei problemi posti all'industrializzazione prima degli allargamenti del suffragio. In fondo l'Inghilterra per quanto che ha una lentissima evoluzione verso il suffragio universale, per aspettare la prima guerra mondiale, quindi eventi ciclopici dal punto di vista della nazionalizzazione delle masse che poi giustificano movimenti sul piano del suffragio. La forza altrettanto rilevante che i diritti sociali hanno all'interno dei totalitarismi ci fanno disattivare un parallelismo, perché il diritto sociale è comunque un elemento fondamentale di creazione del consenso, che è certamente un dato importante, però non è accompagnabile ad un parallelo sviluppo del suffragio o dei strumenti di partecipazione. Si parlava della situazione della tutela della donna e del fanciullo, ma quella è una tutela giuslavoristica, poi per aspettare davvero un sistema previdenziale per la maternità bisogna aspettare l'organizzazione nazionale maternità e infanzia, quindi si trova un passaggio poi determinante nell'esperienza totalitaria. Allora starei un po' attento, non li vedo estremamente collegati, lo stesso anche il piano Beveridge non è che, se si pensa che la storia inglese occupa sia nel secondo dopoguerra da una parte quasi il massimo di espressione di un modello di stato sociale, però anche il minimo nella versione tecceriana negli anni 70 ci fa capire che questa vicenda non è coperta da una dimensione costituzionale intangibile, è un problema di politica economica nel modello inglese, è un problema di scelta di politica sociale, però anche in questo caso il suffragio non muta e si tratta di un indirizzo politico di maggioranza che nel modello di Westminster consente al Primo Ministro di indirizzare con forza la politica economica nella direzione in quel momento ritenuta coerente dalla maggioranza parlamentare. Ho ancora tempo per due brevissime domande, una a Simone che ha accennato prima a tre momenti di tentativi di riforma dell'ispettorato corporativo, inizio anni 30 e poi 42 e in mezzo c'è il 36-37 e volevo qualche chiarimento intorno a questo tentativo di riforma del 36-37 che se non sono stato disattento hai poi saltato nella tua esposizione e a Ilaria invece vorrei chiedere se puoi chiarire un po' meglio questa sorta di ancoramento lavorista dell'idea di previdenza sociale che sarebbe stato trasversale a tutte le componenti politiche principali, perché poi però in definitiva nel 52, nel 58 se non ricordo male, nel 55 e nel 58 sono personaggi del mondo CGL comunista, comunista CGL ad avanzare dei tentativi che sono sì ancora legati alla figura del lavoratore, però un lavoratore precario, un lavoratore occasionale che non raggiunge, è vero che c'è ancora di mezzo il lavoratore, ma forse mi verrebbe anche da commentare che in questa dimensione lavorista dell'approccio della sinistra ci stava ovviamente un forte produttivismo, una forte valorizzazione del lavoro da parte di una componente del mondo politico sindacale che in quegli anni si pone come obiettivo fondamentale la lotta alla disoccupazione e porta alla lotta alla disoccupazione nel concreto della rivendicazione sindacale, la lotta alla disoccupazione la fa anche Fanfani che crea gli uffici del lavoro e della massima occupazione, che fa il piano in a casa eccetera, però la CGL fa il piano del lavoro, lo propone e soprattutto nella contrattazione aziendale chiede sacrifici ai lavoratori dipendenti a favore di scelte rivendicative che favoriscono l'aumento dell'occupazione e perdono il consenso dei lavoratori a metà anni 50 su quegli obiettivi, su quella richiesta di sacrifici ai lavoratori occupati a favore dei disoccupati perché chiedono ai lavoratori di non fare gli straordinari, di non accettare i premi di produzione sostanzialmente, non lottano contro i premi di produzione e l'incidenza della parte incentivata variabile del salario sulla paga complessiva e contro gli straordinari, cose che invece i lavoratori specie gli immigrati, specie gli ultimi arrivati non accettano perché hanno bisogno di massimizzare i guadagni, portare la famiglia al sud al nord e cose di questo genere e su quella strategia a favore dei disoccupati con l'idea di un sindacalismo politico che difende gli interessi dell'intera classe operaia e che punta quindi a una difesa del lavoratore piuttosto sul mercato del lavoro, guardando ai rapporti generali di forza piuttosto che alla difesa del lavoratore sul luogo di lavoro, matura la sconfitta. Quindi forse una certa differenza c'è, si punta ad un welfare lavorista sì, ma si vuole il lavoro per tutti e si lotta perché il lavoro ci sia per tutti, perché ci sia un diritto al lavoro e non solo un diritto del lavoro. Sì sì no, sono assolutamente d'accordo che la mia lettura era un po' tagliata con l'accetta nel senso che poi non teneva in considerazione le cose che avevano le letture opportunamente. Ah scusate, avete sentito? Ed è vero che appunto il problema principale era la disoccupazione, questo è evidente, così come è vero che negli anni 50 sono praticamente soltanto esponenti comunisti, con l'unica eccezione di Vigorelli che è praticamente isolato, a proporre continuamente all'attenzione del governo miglioramenti che è vero riguardano il lavoratore ma riguardano fondamentalmente effetto di marginali in senso generico, non solo di lavoratori marginali, ma proprio di marginali appunto in senso più ampio. Però io ho messo una serie di dati per velocità, quello che mi sembra che contraddistingua in ogni caso da metà degli anni 50 in avanti le posizioni di CISL e di CGL e che effettivamente porta comunque gli esponenti della CISL ad avere una visione più svincolata dal lavoratore e veramente più aperta al cittadino e anche tutto quello che riguarda, io non ho avuto assolutamente il tempo di accennare, il finanziamento della sicurezza sociale e tutte le forme che si legano alle mancate riforme fiscali, perché io ovviamente non ho potuto parlare di tutta la seconda gamba che è legata alla sicurezza sociale, che è come la si finanzia, se la si può finanziare, con quali strumenti e questo attiene ovviamente a scelte che ricadono quasi esclusivamente sulla politica fiscale, se non si vuole continuamente gravare sull'aspetto contributivo che rimane per tutto il secondo dopo guerra la forma maggiore di finanziamento. Quello che emerge nei dibattiti interni al mondo comunista è l'assoluta mancanza di una consapevolezza degli aspetti finanziari, proprio fino quasi al 59 l'aspetto fiscale e quindi tutto quello che c'è dietro anche il dibattito sulla mancanza delle riforme per la CISL è quasi assente, è tanta e tale ovviamente visto il contesto, la preoccupazione sulla lotta alla disoccupazione che però manca quasi un angolo visuale insomma, per cui rischiano in qualche modo di rimanere un po' miopi, non so come dire. Ecco sì, la miopia forse è la metafora che descrive meglio, cioè continuano per esempio in maniera ossessiva dal 46 in avanti a non vedere, nonostante tutti i dati tecnici attuariali, statistici, finanziari ci sono già dal 50 in avanti, che l'età pensionabile è un problema enorme, è un macigno che grava sulla testa dei lavoratori in proiezione anche non troppo distante, lo dicono già nel 46 gli studi statistici che se non si torna all'età pensionabile pre-39, quindi si abbandona una delle eredità fasciste più concrete che è la legge del 39 che aumenta l'età pensionabile, che diminisce scusate l'età pensionabile, ci saranno dei dislivelli finanziari nella copertura insomma della sicurezza sociale di lì a pochi anni. La CISL lo sa, ne parla, la CGL ogni volta che si tocca il problema dell'età pensionabile c'è uno scoglio veramente quasi ideologico in qualche modo, quindi ovviamente sono i protagonisti delle riforme, sono quelli che pungolano, sono quelli che portano all'attenzione politica ai problemi, su questo non c'è un minimo dubbio e ovviamente non è un giudizio di valore quello che volevo prima esprimere sull'azione della CGL, però effettivamente guardando i loro dibattiti interni, quello cui loro danno rilevanza, peso e importanza ci si accorge che l'enorme problema della sicurezza sociale che comporta anche tutta una serie di questioni concrete riguardanti il finanziamento della stessa, sembra un po' sfuggirgli di mano, sono nel 59 Vittorio Foa, il primo che in quel convegno lo riporta all'attenzione, sulla base di studi compiuti da una figura su cui non sono stati fatti almeno da parte degli storici sufficienti studi, anche perché la storia del fisco e delle politiche fiscali in Italia non c'è, nessuno l'ha mai studiata, anche perché è drammaticamente complicata, però effettivamente è un capitolo della storia della previdenza e dell'assistenza che non può essere eluso secondo me e uno dei maggiori protagonisti di quella stagione è un tributarista Sergio Steve, liberale fondamentalmente nell'impostazione, ma che diventa consulente della CGL, partecipa anche al piano del lavoro e non è mai stato studiato, Sergio Steve in realtà è una figura fondamentale insieme a Coppini, che matura da posizioni anche politiche, ideologiche abbastanza diverse, sono le uniche due voci che ossessivamente dagli anni 50 in avanti pongono il problema del finanziamento della spesa sociale e della necessità assoluta di una riforma fiscale in questo Paese e parlano abbastanza nel deserto in qualche modo e di fatto poi uno dei maggiori elementi che sono stati messi in rilievo dagli studi sul post anni 60 è il fatto che quando si arriva finalmente con la riforma Brodolini ha un sistema di sicurezza sociale, possiamo quasi dirlo, con la pensione sociale nel 65 e con la grande riforma delle pensioni, la riforma fiscale è ancora impelagata nelle pastoie e nei conflitti della commissione della riforma tributaria che nasce nel 62, insomma c'è un decennio di distanza tra le riforme della sicurezza sociale e quelle fiscali che portano all'apertura di un deficit nel disavanzo primario dello Stato e quindi io direi che per andare un po' oltre quello che mi hai chiesto, in ogni caso il problema fiscale va fatto assolutamente rientrare, le consapevolezze su che cosa occorreva fare per i finanziamenti della sicurezza sociale dovrebbero poi rientrare ampiamente in tutto il quadro che ho tentato molto sommariamente di fare. Nel dire che sono passato dall'inizio degli anni 30 al 42, colpa mia di disorganizzazione proprio della relazione, cosa c'è di nuovo rispetto al periodo precedente? In realtà c'è una cosa piuttosto importante, per la prima volta con il disegno con il quale si cerca di riformare nuovamente l'ispettorato corporativo si va ad affermare nel 37 che l'ispettore è ufficiale di polizia giudiziaria innanzitutto, di conseguenza un ispettore viene equiparato come funziona un ispettore di polizia e quindi questo per dar seguito in buona parte a quei ragionamenti del periodo precedente di Bottai che tutto sommato cercavano di garantire un maggior status anche da un punto di vista proprio di autorità al funzionario. Le due cose che concretamente vengono proposte con la riforma del 37 sono l'aumento degli uffici su base provinciale, c'è questa contrattazione ovvia che si fa sempre con il Ministro delle Finanze, si chiedono 50 uffici provinciali e il Ministro delle Finanze gliene concede 30, gli riconteggia la pertinenza in termini di quelle che sono risorse disponibili e questo è quello che si riesce a spuntare. Forse la cosa più interessante, c'è una citazione breve in questo senso che viene proprio da una relazione fatta dal Ministro Lantini che cercava di mettere in evidenza perché la mancanza capillare sul territorio su base provinciale creava dei problemi. Il problema era ovviamente quello dell'essersi con la legislazione corporativa aumentata a dismisura del numero delle norme e di conseguenza era un problema proprio di cultura, di conoscere da un punto di vista del singolo funzionario nel territorio la pertinenza di applicazione di singole norme piuttosto che altre e quindi il ragionamento è proprio questo, in provincia questo è un discorso proprio del Ministro, manca talvolta anche ai dirigenti, alle stesse autorità, la esatta cognizione o comprensione delle leggi sindacali, ciò che dà origine a inconvenienti talora gravi come la nullità dei contratti e gli straripamenti dalla sfera della propria competenza. Molti inconvenienti sarebbero eliminati dal pronto intervento di un funzionario che vivesse a contatto continuo con le associazioni e ne potesse seguire l'attività economica e contrattuale, da qui si fa questa proposta di estensione degli uffici in maniera estremamente più capillare. Con una precisazione, esistono ovviamente quelle province grandi che hanno per importanza di luoghi di fabbrica delle deputazioni più grandi, in quel caso chiaramente non c'è bisogno di appoggiargli un ufficio provinciale proprio per evitare un doppio intervento di funzionari, però cercare di armonizzare l'intero territorio nazionale su una base di funzionari che capillarmente stiano a contatto con le associazioni padronali e sindacali. Queste sono le caratteristiche differenti rispetto a quelle che vengono rispetto al 31-32. Nello stesso momento, nelle relazioni del 37, si fa una sorta di breve consultivo di quelle che sono le nuove questioni sul piatto e si ricorda che con l'introduzione delle 40 ore lavorative, di fatto il ruolo arbitrale e peritale dell'ispettorato del lavoro viene ad essere particolarmente aumentato per il fatto che è necessario, ci sono, dicono gli ispettori, numerosi casi in cui l'ispettore stesso è l'unico a poter determinare la liceità degli straordinari oltre le 40 ore in determinati stabilimenti e questo viene stabilito proprio in conseguenza di una difficoltà di armonizzare le due voci principali, quella chiaramente del padronato e quella delle forze sindacali fasciste. Questa cosa viene ribadita in due relazioni differenti, una da questo personaggio che è onnipresente in tutto il periodo dell'ispettorato del lavoro fascista che è Anselmi, io non conosco che personaggio sia, questi sono personaggi che biograficamente da un punto di vista prosopografico andrebbero studiati e poi chiaramente la ricorda in maniera specifica proprio come vi dicevo prima il Ministro, quando ricorda che la settimana lavorativa di 40 ore impone all'ispettorato del lavoro attribuzioni particolarmente delicate come quella di autorizzare per singole aziende orari superiori alle 40 ore eventualmente necessarie e quelle di controllare di volta in volta per ciascuna azienda interessata la necessità del lavoro straordinario stabilendone i limiti. Questa è la particolare differenza, la riforma del 42 come dicevo prima è quella che essenzialmente militarizza tutto quanto e porta ad avere appunto anche i regi carabinieri all'interno dell'ispettorato del lavoro, oltre a, e questo proprio non sono stato a snocciolarvi un po' di numeri, ad un aumento consistente del numero dei funzionari che credo nemmeno entrino in particolare attività, visto poi il periodo di guerra e il passaggio abbastanza, si parlava di 5 anni per riuscire a mettere in piedi tutto quanto, dal 42 al settembre 43 voglio dire c'è molto poco tempo, quindi poi i padroni del gioco diventano i tedeschi in quel caso sull'aspetto proprio della disciplina del lavoro, almeno nelle realtà di fabbrica principali. No, non lo so, direi che siamo abbastanza stanchi. Io vi chiedo una cosa. Allora, salutiamo, allora scusami, ne approfitto per salutare i nostri ospiti fiorentini. Chi è stanco può alzarsi e andarsene. Sì, esatto, militarizziamo la seduta. Abbiamo di un po' l'autorità. Facevo una postilla, mi è venuta in mente una cosa su questa ideologia lavorista, non poteva che essere così, nel contesto dell'Italia del 45-50, in quelle condizioni socio-economiche, con l'eredità fascista che era intatta. Non penso che la CGL o le forze comuniste avrebbero dovuto comportarsi diversamente, rilevano e leggono un dato di fatto che gli sta intorno, ecco, assolutamente. È abbastanza però sintomatico che dal 44 al 50 Rinascita non pubblica un singolo articolo sul problema della riforma della Previdenza. Non è proprio nei loro orizzonti, in quel momento evidentemente le priorità, i problemi sono altri. Quindi quell'aspetto per loro verrà, non è una priorità. Insomma, il fatto che non dedichi non neanche un articolo, così come lo spoglio dei quotidiani, socialisti e comunisti, non rivela neanche nei momenti caldi della competizione elettorale, neanche un uso strumentale o ai fini elettoralistici di questi argomenti. C'è il lavoro e c'è la disoccupazione, perché evidentemente quello è il problema. Non dico che... e quindi non è presente un'altra dimensione. Poi chiaramente il piano Beveridge veniva giudicato e bollato da tutti, da molti, come un piano liberale conservatore. Cioè la percezione che ne avevano è che per il fatto, la frase abbastanza famosa, che dà al baronetto come al maggiordomo lo stesso genere e la stessa quantità di provvidenze assistenziali, beh, questo non è accettabile, mentre era proprio lì l'aspetto rivoluzionario del piano, cioè il fatto di una unicità di interventi su cui poi si poteva intervenire, appunto differenziando, a secondo delle categorie professionali, una serie di ulteriori interventi. E questo non viene recepito come tale all'interno delle forze, insomma, né socialiste né comuniste. paradossalmente, ma no, neanche tanto paradossalmente, direi che è completamente comprensibile che siano i cattolici in realtà a farsene... Sono i primi, nella rivista internazionale di scienze sociali, nel 43, sono i primi a occuparsi del piano Beveridge. Addirittura Gemelli è un entusiasta sostenitore del piano Beveridge, perché intravedono in quello spazio di libertà individuale che il piano chiaramente lascia, una consonanza, appunto, con quello che è, insomma, il pensiero sociale cattolico da da sempre. E quindi, in questo senso, sono i più... sono i fautori più... più dinamici della propagazione del piano Beveridge in Italia, i cattolici, specialmente poi i dossettiani, quindi anche in cronache sociali, assolutamente recensito e applaudito. Nelle altre componenti, effettivamente, molto meno. E quando, appunto, la CISL si fa, in pratica, promotrice di un piccolo piano Beveridge, cioè una base uguale per tutti i cittadini, su cui puoi costruire differenze previdenziali e assistenziali a seconda, la CGL è fortemente, ferocemente contraria. Questa cosa non corrisponde in nessun modo al principio che la CGL porta avanti. Nel 59, negli atti di quel convegno, la contrapposizione tra CISL e CGL, proprio su questi principi, emerge chiaramente. Foalo dice con grande nettezza che non è quella la strada che la CGL intende seguire. Comunque, come ho cercato di dimostrare, piano piano anche la CGL, facendo proprie categorie e linguaggi che cominciano piano piano ad avvicinarla, appunto, a un sistema che è quello, appunto, universalistico, rivolto a tutti i cittadini. Scusate, volevo precisare. La domanda è per voi due, indubbiamente, non solo perché siete gli unici rimasti, perché cascava esattamente bene, eravate voi gli interlocutori principali. La premessa è questa, c'è una rivista, c'è un settimanale importante degli anni 30 francese, un organo diretto da Henri Barbus, quindi Monde, che ospita una rubrica per alcuni anni su quelle che sono le caratteristiche principali della crisi del marxismo e della rappresentatività sindacale nei confronti degli operai. Su quest'ambito ci interviene relativamente, sappiamo, i suoi interessi sono quelli, cioè la genesia dei fascismi e poi del nazismo, ci interviene Angelo Tasca, che sta per diventare cittadino francese, che scrive su quella rivista. C'è un articolo particolarmente importante in cui lui parla della inadeguatezza, parlando della Repubblica di Weimar, degli ultimi anni della Repubblica di Weimar, di quella che lui definisce una aristocrazia sindacale che non riesce a comprendere nemmeno la base sindacale e che quindi vive talmente staccata dalle questioni, cioè è talmente privilegiata all'interno del meccanismo di contrattazione messo in piedi dalla parte socialdemocratica di Weimar, da non comprendere che, queste sono parole precise di Tasca, la questione della disoccupazione per un tedesco, ma questo si estende poi alla Francia e ad altre realtà, è diventata non una questione inerente del proprio mestiere, ma una questione strettamente politica. La mia domanda è questa, c'è nel dopoguerra, negli anni in cui i problemi che avevano evidenziato, sono tutti ben chiari sul piatto, una critica dell'inadeguatezza della capacità dei sindacati da sinistra, esistono posizioni politiche da sinistra che riflettono sulla incapacità del sindacato di fare il proprio mestiere? Stefano? Direi di no, però direi anche che il modello di sindacato che si afferma nel dopoguerra è in ambiente socialcomunista, come sapete il partito socialista e il partito comunista non parte di trattazione, è il sindacato di sindacato politico, è il modello di sindacato politico che ti dà, secondo me ti dottavo di dire che non fosse troppo brevemente, l'idea di rappresentare la classe operaia nel suo insieme, occupati e disoccupati, senza più nessuna distinzione tra lavoratori qualificati e lavoratori non qualificati. La critica che Tasca avanza nei confronti della società di conversione tedesca è quella di riprodurre un modello di sindacalismo elitario rivolto agli operai schermi, rivolte agli organizzati, di un sindacato che si occupa degli organizzati e non degli organizzati. Quindi un'elite sindacale che si rivolge ad un'elite operaia praticamente. Si rivolge ad un'elite operaia, mentre invece la posizione che viene sostenuta ormai di quegli altri è una posizione di un sindacato di tipo industriale che organizza tutte le categorie di lavoratori e questa questione è una questione se vogliamo abbastanza controverse, però c'è un momento di passato da un sindacalismo di mestiere a un sindacalismo di tipo industriale, vuol dire che non distingo più mestiere da mestiere ma che merceologicamente il primo al settore tenta di recuperare tutti i lavoratori di quel settore, manuali e specializzati allo stesso tempo. Ed è un tentativo che viene già addombrato dalla CGDL nell'immediato primo dopo guerra, anche se non ci riescono, perché è un sindacato che passa da 200 mila a 2 milioni di iscritti negli anni di guerra, che ha a che fare con la nuova classe operaria entrata negli stabilimenti durante la guerra con la mobilizzazione industriale, non ci riescono tardi, perché hanno una concessione del sindacato ancora legata, però lì la posizione di Tasca è abbastanza evidente che lui possa svolgere quel tipo di critica, perché era la critica che l'ordine nuovo fa alla dirigenza riformista della CGDL. La differenza tra i consigli di fabbrica e granosciani e dunque taschiani e le commissioni interne tradizionali, perché le commissioni interne anche le lette dai soli iscritti al sindacato, dai soli organizzati, mentre invece il consiglio di fabbrica era letto da tutti. e quando Bozzi, però, è un apprendimento che riguarda anche i leader riformisti, perché quando Bozzi fa l'accordo con Mazzini, in quanto Giuseppe Mazzini, industriale torinese, messo a commissario per la Confindustria, da Badoglio, e di Vittorio messo a commissario per le organizzazioni sindacali, sempre da Badoglio, fanno l'accordo per rinascere le commissioni interne, travedono che le commissioni interne siano elette da tutti, non solo per le organizzazioni. E questo va tra l'altro in polemica con un aspetto del sindacalismo fascista, che a me è capitato di riscontrare leggendo molti fogli locali del sindacato fascista, perché c'è una sottolineatura che il fascismo fa sull'importanza del mestiere e il sindacato a livello locale si riorganizza in gruppi legati al mestiere. Non c'è un vero e proprio ritorno alle leghe di mestiere ottocenteschi che pregono le sintesi. Però c'è un po' un ritorno all'indietro, c'è l'idea di una società geratica che premia il contributo del lavoro e dei lavoratori alla forza e alla potenza della nazione, che ha a che fare con le capacità professionali, con la promozione del merito, il sistema corporativo come un veicolo di mobilità sociale verso l'alto per per i lavoratori meritevoli, sono innanzitutto quelli che si preparano professionalmente per dare un contributo maggiore. Quindi c'era stato, nella fine degli anni 30, nell'ambiente del sindacalismo fascista, una sorta di ritorno a sottolinearmi a distinzioni di tipo corporativo se vogliamo, per mestiere. Però rispetto a questo c'è una reazione che poi appunto si traduce in questo accordo del settembre del 43 e poi nel fatto che anche il sindacalismo di Salò riprende questa idea di una rappresentanza interna liberamente letta da tutti i lavoratori. Dunque non mi stupisce quel tipo di critica. Nel secondo documento il problema casomai si pone nel mondo civista. Il mondo civista che abbandona la cultura sindacale bianca, che è una cultura di corporativismo cattolico, che prevedeva un ruolo ancora pubblicistico del sindacato e del contratto di lavoro. Secondo la cultura bianca doveva appartenere al diritto pubblico e non al diritto privato, in quanto loro parlano di sindacato obbligatorio e di libere associazioni nella professione organizzata. Il sindacato è un ente di diritto pubblico. L'iscrizione al sindacato è obbligatoria per tutti i dipendenti, in quanto il sindacato offre dei servizi relativi relativi al contratto, eccetera, che danno dimensioni pubblicistiche. Il contratto va in ottobre sotto il paziente fascista. Poi ci sono delle libere associazioni, su base professionale, ideologica, che però concorrono a formare un sindacato che di per sé è obbligatorio. Dunque, è questa tradizione bianca che viene ripresa dalle prime elaborazioni, dai primi leader grandi, che con il cuore, ma è dal suo e rendere a pelle un corinesi che riprende questa idea della dimensione pubblicistica del sindacato e del contratto di lavoro, viene superata sotto l'influenza di Mario Romani, che guarda il modello statunitense, e afferma invece un sindacato e un contratto di lavoro che tengono il diritto privato, afferma la dimensione del contratto che deve essere superiore alla dimensione della legge, si oppongono fermamente alla legge sindacale attuativa dell'articolo 39, che era un tentativo di contemperare l'ergaone strutturalismo sindacale. Se si vuole affermare la libertà di associazione sindacale, ma se ci sono tanti sindacati, chi ha diritto di firmare il contratto valido per tutti? Quindi si trattava di superare questo problema, che è compromesso della rappresentanza unitaria proporzionale prevista dall'articolo 39, contro la quale la Cisla si combatterà riuscendo a bloccare tutti i tentativi nati anche in ambiente di C, di produrre le lezze sindacali attuativa dell'articolo 39. E la Cisla vede nel sindacato innanzitutto l'associazione degli iscritti. Il sindacato è degli iscritti, non è l'intera classe. Con un'idea di tutelare tutelare i lavoratori e di realizzare uno sviluppo. Ci sono due idee di sviluppo economico diverse che ci sono nella CGL della CGL. Io la faccio poco lunga, non sto fermando. Ci sono due idee differenti. La CGL sostiene che lo sviluppo dipende dal massimo impiego e del fattore produttivo abbondante in Italia, che è il massimo impiego. Quella è la via dello sviluppo. Dunque, tutto deve essere subordinato all'obiettivo fondamentale che è la trastica lotta alla disoccupazione. In ambiente Cisla si sviluppa un'idea diversa veicolata dall'emissione della produttività del Gero Marshall. Loro entrano a far parte del Comitato Nazionale per la produttività, sia negli esponenti di Confindustria, mentre la CGL si mantiene fuori. Sostengono che la contrattazione non deve essere nazionale, deve essere aziendale. Guardate queste caratteristiche per il bambino, questa differenza ancora oggi. La contrattazione è aziendale, che la produttività è l'obiettivo fondamentale, perché senza la produttività non c'è rettico da distribuire, dunque il sindacato collabora la produttività chiedendo il cambio delle ricadute salariali e immediate per i lavoratori. In questo modo si creano delle isole che per la CGL sono isole di privilegio, che possono comportare il rischio di un distacco dei lavoratori e delle imprese più dinamiche dal resto del mondo italiano, quindi la classe che si fa la prima. Invece per la CGL sono una situazione in cui si creano delle isole di dinamismo economico, anche attraverso l'aumento salariale che comportano aumenti della capacità di domanda e della capacità di consumo, e si innesce un meccanismo di dinamismo economico con una macchia di neopardo che però poco per volta trascina, si estende e trascina allo sviluppo dell'intero paese. Dunque casomai una dimensione, come dire, di rappresentanza di gruppi di lavoratori ristretti, la si potrebbe individuare nella CGL, piuttosto che nella CGL. Ma ormai comunque questi qua sono tutti confederali, sono tutti per organizzare tutti quanti, che alla produttività concorre il lavoratore qualificato, così come il manovale, non c'è più una distinzione di quel tipo. E in effetti i differenziali salariali si riducono drasticamente, i differenziali salariali per categoria vanno poco per volta a ridurre drasticamente. La rigidità ideologica che portava a definire in anni 30, vuoi difendere una aristocrazia oberaia, non c'è più, non ha più consistenza. D'altra parte ci sono gli anni più dappertutto quando si afferma il sindacalismo generale. E la fusione tra EFL e CIO negli Stati Uniti nell'esempio delle città scompare quel tipo di sindacato evitato. E invece è ancora forte come dimensione della CGE, nella CGDL, di regolarità, corone, di due ozze. Bene, se non ci sono altre... No, anzi grazie, no no, chiarissima. Se non ci sono altri interventi, domande e curiosità, ringrazio veramente tutti anche per la pazienza e spero che sia stato di qualche utilità per chi ha ascoltato e ringrazio naturalmente tutti coloro che sono intervenuti a questo tavolo e buona serata.